Ciao Jesus! Bella Jean, con la super i40! Welcome back! Vediamo... Ah, cosa facciamo signorine? L'idea è morire intenzionalmente per provare a cambiare passato? Perché grazie alla vostra scelta ci siamo giocati alla love story. Bella Dragon! Che non so se potrebbe essere una love story o che. Cosa mi è ripartito il bad di trecine? Non esagerare con le destrine del vibolero? Quello sono le destrine? POMA GHIZIA! I can see them... Skulking in the bushes! They sniff me out, the dirty rats! Ok, andiamo a salvare il sto stronzo, va. Mannà, io ho uscito pericchio. Ah, batteria massa negativa. Segui di potenziare i campi di forza avanzati. Utilizzato automaticamente quando si usa un generatore o un disgregatore di campi di forza. Me la porto per sicurezza? Questa è la psiche, questa è la pericosi. Bella, un like con i tre mesi. Meno male che l'ho fermata e gliel'ho fatta fare sul destro, così almeno posso disegnare Gnese. Bravo, Audi. Grazie per i cheer. La prima dose, comunque, non la prima dove, credo. Quello nuovo era... Michael. Ok, no, è vero che di giorno non ci possono ticciare niente. Bella, ninjufo con i trentanove. Un trentatré. Pollo con bambù e funghi, grazie. Allora, va bene. Noi dobbiamo andare al porto, quindi. No. Ok, no, Copacci, dobbiamo andare. Allora. 93, sicuramente mandiamo lui. 85, 66... No. 99, good. E noi andiamo a Copacci. Let's go. Bella, seven con i quindici. Welcome, Beccherino. Why did Tarakon turn to you for help? He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. He knows more about you and me than he's letting on. Watch out, my love. Watch out, my love. Ok, allora. Volodia, chi minchia è? Toschene. Chi minchia è, Volodia? Ah, Volodia, è quello che abbiamo salvato l'altra volta. Credo. Sì. Hello there. Sì, è un discount per il mio saviore. Sì, sei un beacon di speranza in questo run-down shithole. Il declinio della civilizzazione è su noi, ma noi ancora possiamo combattere. Sembra troppo un prete, lui, dalla thumbnail. Allora, lui mi dà un med per una reazione di cibo. Allora, diamogli a dei due di cibo, che tanto siamo abbastanza pieni. Grazie, Antoine. Allora, una pomata... Allora, questo... Uno di sali per uno di cibo? No, vaffanculo. Cibo ce l'ho. Cibo, sono abbastanza a posto. Allora, qui dobbiamo far esplodere un candelozzo. Andiamo per il revolver, ci piacciono. Il revolver non so manco se prenderlo, raga, perché... Vabbè, lo tiro su, ma non ce le fa vendere, ste robe. Ah, vedi, però io ero convinto che... Ovunque tu spaccavi quella roba lì, trovavi anche la... Ah, mi chiami tutto upato, sto revolver. Minchia, fa troppi più danni del mio. Però mi sa che non è il silenziatore, per quello che fa più danni. Sbri! Con le due sub-gift, thank you, Johnny. Grazie mille. Thank you, thank you. Per l'omega supporto in questi anni, no? Cazzo, ero convintissimo ci fosse sempre il robo. Poi guarda il trailer di un Survivor Sussim. Sembra figo, voglio un tuo parere, la chance che sia, non so, non so. Si chiama Icarus ed esce tipo il 10 agosto. Dopo lo vediamo. Allora, abbiamo una secondaria da fare qui, quindi... Va bene, ma possiamo fare anche la main, intanto... Ti dà sempre il tempo, poi. Ciao, Tani. Ciao, Tani. Ciao, Tani. Ciao, Tani. I can't get enough of you. Bella Uruz con i 44. E Fili con i 3 mesi. Is this a train? Is this a train? All is just fantasy. Nanananananana. No, is this a train of reality. Come sappia che avarsela anche da solo? Cazzo è stato? Ciao, Fra. Un trail of dead rats? Well, that can't be a coincidence. El ratons. Fottuti ratti morti. Beh, ogni ratta è 0.1 di cibo. Mica cazzi. Minchia. Io sento passi qua vicini anche. Ok. Ok. Ok, uno è lì. E secondo me c'è neanche un altro. Ma quanti cazzo sono? Vabbè, stendo questo, vediamo cosa succede. Ciao, Perse. Buonasera. Oh, quello è quello con il casco. Dobbiamo stendere prima quello con il casco perché è l'unico a cui non posso sparare. Dai, Johnny, esci. A parte che mi sa che viene di qua lui. Eh sì. Ok, quello dietro non mi ha spottato. Mi ha spottato invece. Oh, cazzo. Ce n'era pure un altro. Ok. Ma quanti minchia sono? Ah, minchia è rimasto vivo con un HP quel merda. La sanity del mio PG va a puttane. It's ok. Il raton. Allora, quindi ne ho ammazzato uno qui. Che l'altro era indietro di brutto. Dove cazzo era? Qua. No? Sul topo? Era tipo qui. Non troverò mai che ad avere di quello. No, non era così lontano. Dove minchia è morto? Quel cane cagnoso. Eccolo. A fucile? Thank you. Thank you so much. Troviamolo, troviamolo. Mi sa che ci saranno altri enemies qua. Siamo a corti. Oh, di zero in uno, in zero in uno, con questi topolini qui diventiamo ricchi, eh? Mi seguo, topolini. Sentilo come spara, è lui? Porca troia. Oh, di zero. Keep digging. That was a friend you killed. You can thank your lucky stars were in a hurry. Don't rush it. I wanna watch him sweat away his last seconds before the bullet. From Misha. If I'm going to act, it has to be now. Sono arrivato, Gianni. Ma sai che mi sembrava che ci fosse lui inginocchiato? Ciao, Kava. Sembrava ci fosse lui inginocchiato, invece no. What the hell? Va bene, non credo di averli lootati tutti, perché... Non lo so, ma ok. Eccolo qua. Eccolo qua il Mother Tracker mancante, due. Ah, gli stavano scavando la buca. Eccoti dove sei. Eri lì in ginocchio, vedi che non è che sono pazzo. Ti avevo visto. Ah, mi inchiagò. Dai. What you wanted, didn't you? I covered your tracks. And the N.A.R. didn't get into your place. That's true, Mousy. Ah, I'll join you. Nice. But you're on probation. Make sure that you don't disappoint the great rat catcher again. Or me, for that matter. Ok, abbiamo un nuovo friend, signorine. We got a new friend. Passi come. Achievement unlocked. Il re dei ratti. Bene, facciamo la secondaria prima che arrivino... Io lì col cazzo che c'entro. Macca l'altro. Andiamo di qua. Così, è un rumore strano. Mi sa che ci sono i mob. Cos'è che mi segna di pericolo? Oh, cazzo. Ma come scendo? Sì, mi sa che è qua sotto il mob. Sì, eccolo lì. Free experience! Mi lancio? Non ci entro, cazzo. C'ho il culo grasso. E invece... Ora non usciremo mai più. Plum, 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 plum. Non è che forse qui c'è la cernobilietta, eh? Bella caciups! What? Cos'è stato quel... Quel flash? Qui dobbiamo scassinare. Sì, ma voglio una reward decente. Laboratorio del campo d'armaiolo, non me ne frego un ca... Dai, veramente, revolver! Ancora basta darmi revolver! Il gioco mi sta trollando. Cioè, ho buttato un grimaldello per un revolver e dei colpi. La mia lampadina! Help! Bella il sancio con il 14 e la legendary! Thank you, infinite. Thank you, thank you. Una cassaforte mia! Non si apre. Fuck. Uh, Houston, we have a problem. Come cazzo usciamo noi da qui? E soprattutto, perché qua sotto non c'è nulla? Mamma! Eh, non si dà una mazza, eh, no? Nei posti chiusi, no? Siamo arrivati da qua? No, noi siamo arrivati da qui all'inizio. Ah! Mica l'avevo visto il tunnelino. Ah, guarda dove cazzo si entrava. Fuck. E dovremmo aver fatto tutto, vero? Se non c'è una roba di l'NPC. Ok, ce ne possiamo andare. Easy Mission. Easy Mission, indeed. Abbiamo dovuto fare un po' di sniperino. E via. E Bruno Lorso con i 32 mesi. Welcome back! Grazie per il supporto. Ok, la prima domanda è quali droghe assumi e quanto? In my dreams. In my dreams. Haunted my nights for years. She told me where to find it. The music box. She mentioned you too. What did she say? Exactly. She advised me that you could be an important instrument in the fight against the rat king. She also wanted you to see the mythic world to convince you that all this is real. I keep seeing her too. At first I thought it must be my imagination, but... No, don't say that. She is completely real. Don't doubt it. For another moment. Beh, se lo dici tu, cazzo. Why was NAR trying to kill you? Isn't it obvious, Mousie? Chega per il bene dell'umanità. I'm the only person that stands between humanity and the rat king. His minions will try to kill me every chance they get. Ok. Why don't you retire the act for a while? Who are you, really? What act? There is nothing more real than this. Tarakan is more real than you are. Does your name have some special meaning? Tarakan means cockroach. And that is what I am. A humble being reborn from the ashes of Chernobyl's destruction. Tiny, but resilient. Tiny, but resilient. But when Divine Providence called upon me to face the rat king, Tarakan was born. Sì, è un supereroe praticamente. All right. Good talk. Vuoi anche mangiare, immagino, vero? Eh già. Allora, lui ce l'ha fatta. Lui ce l'ha fatta. Tutti ce l'hanno fatta. Andiamo alla distribuzione del cibo. Diamo a tutti la nostra stessa reazione. Così sono felici. E accettiamo. Let's go. Beh, adesso inizio a costarmi 4 di cibo al giorno, però, eh. Quindi dobbiamo stare un attimo all'occhio. Allora fammi mangiare uno di questi. Bella croc. Ok, allora ci saranno due piastrine che ci si è rotta l'armor. Una e una, due. Very good indeed. Dobbiamo raccogliere il nostro... Mamma mia, guarda, qui. Un paio d'anni e siamo in positivo con quello che abbiamo speso per farle quelle robe lì. Allora, qua possiamo mettere giù tutto, direi. 8.000... Ah, devo dare le armi al tipo nuovo. Devo dare le armi al tipo nuovo. 30 mi sa che è la stack massima. Facciamo così, va? Ce l'ho del cibo in stack piccole. 9. Gli diamo un fucilo da caccia, perché di AK non ne ho più, vero? Oh, ok, gli do una kappa, però non ho il giubbotto. Quello è scemo, che cazzo faccio? Magari ce l'ha già, però. Dov'è? Dove cazzo sono? Cazzo cerchi? Cazzo cerchi? Cazzo cerchi? Sì Sì, quindi il suo padre era un'anatra? Oh cazzo, Pluttone, è il figlio di Howard il Papero? Ma, mancano gli altri due, regà No, uno è qui, ok Dove si è messo? Sarà mica in camera mia? Ah Eccolo là Eh, stai toccando Cosa fai? Eccolo Cosa? Eh, il voice acting di lui è figo però, eh Ma io questo lo devo pure mandare in... oh cazzo Dobbiamo pure mandarlo in missione su un pasticomene Dimmi che c'è un giubbotto Niente, fai schifo, cazzo Ti do la K e ti vado a fare un giubbotto Che devo fare Quattro cose, parti infiammabili Vabbè dai Ce lo possiamo permettere Però tipo, se io glielo do senza placche Secondo me conto uguale, regà, gli NPC Cioè, lui basta che gli dà il giubbotto Non glielo devi mica implaccare Sì, vedi, non cambia niente Boh, speriamo Vediamo in cosa ci allena, va Oh cazzo La deratizzazione Allora, risparmio Il costo di ogni oggetto costruito o fabbricato nel rifugio Rimunisce del 10% Poca roba I nemici impegnano più tempo ad accorrersi di te L'analizzatore ambientale mostra la posizione dei nemici Beh, ma ho già quella frecciolina lì che è abbastanza good Ciao, McCandy Io dico mimetizzazione Non male per te quella mimetizzazione Porta rispetto, hai capito? Mausi, mausi Io sono il re dello stealth Mausi, mausi Mausi, mausi Non il suo dino Non il suo size È la capacità di diventare invisibile O quasi invisibile È quello che ti farò oggi, mausi Il segretà Lì c'è in camoflaggio E controlla il tuo breath Non puoi letteralmente diventare invisibile Solo io posso fare questo E il ratto Dai, vanno Fica la mostra del camaleonte, raga Sempre uguale È pronto quando sei, mausi Hai visto? Eh? E spero che sia enough Di mantenerti vivo Easy Mousy, mausi Vabbè, mimetizzazione mi dice cosa fa Mimetizzazione Parlando come C'è la tua presenza I nemici impiegano più tempo Da accorgersi di Igor Semplicemente Quello Vediamo se c'è Tire 2 No Volendo L'aggiornamento software Potrebbe non essere male C'è un modo di vedere Quanti punti ho Abilità Ho due punti Niente di che No, teniamoli Va Teniamoli Andiamo a fare la Ninna Via 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 E qui non abbiamo trovato nulla Solo stalker oscuro Sempre uno su tre Uno su cinque Via Giorno 13 Morning Morning Niente, intercettiamo solo la gente utile Non è incredibile Don't go Rambo? Scusatemi, quando è successa la cosa di Chernobyl? What? Don't go Rambo? Don't go Rambo Va bene Allora, allora, allora Vediamo cosa mi dicono Allora, abbiamo tre missioni random E ok, abbiamo tre persone ora Minchia, però i primi due hanno percentuali 66, 66, 66 Niente, Oliver è un 66 86, 86, 86 E va bene, allora facciamo così 86 Oliver, non ci morire, please E andiamo a Copaci Questo qual è che è? Un amico di Mikhail Ha finito sulla lista nera Mikhail vuole che lo aiuti Ma facciamo prima questa, va Che ce la toglia dai coglioni, forse Ok Mikhail Mikhail Claims That Everything Is Just Business But I Know You Can Tell He's Holding Back The Whole Truth Can't You There's A Deep Dark Within Him Caused By Loss And Grief Don't Let It Suck You Allora Secondaria qui Candelotta in alto Cazzo che tra l'altro Mi sa che ok Ne ho due Very good Però vi do Sbubazza Un po' ovunque Molto male Ma però non sembra influenzare il mio respiro La sbubazza Va bene Let's go Minchie Irradiation Entriamo super fast Giusto per vedere Ma Niente Ci siamo giusto fatti Un bagno di radiazioni Mi sa Per un cazzo Fuck that shit Minchia quanta radioattiva Sta zona No Che cazzo Non ti girare Buono così Ti faccio i fari Guarda che ti sorpasso Noo Che cazzo Il mio silenziatore No c'è la pizzo What the fuck Non ha funzionato il silenziatore Regà Ma ha fatto bordello l'arma What the hell Avete sentito Fuck that shit Avevo sparato a mezzo metro Ma comunque non ha fatto il rumore Quello di quando è E suppresse Il colpo Cioè ha fatto il colpo normale Mi si è buggato il silenziatore Altro che palle Un chagione Ti vedo messo benissimo No 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 Infatti pensavo di avere il revolver sbagliato Ma no è quello giusto Vabbè diamogli un kit medico O forse i silenziatori si usurano No perché il colpo dopo che ho sparato Era silenziato Si è proprio buggato No Dante ancora no Niente la conoscono tu E se la sono fatta a tutti Tatiana raga My god That's her favorite composer You You know her I can still hear the music Beautiful Inspired Sibelius is not for everyone Weeks ago I started having the dreams Only the music at first Then I saw her She didn't say anything But I understood She communicated with me Through the music Through the music That was our connection What did she communicate? Oh Uh I wrote it down some place But it's still in my hideout Probably swarming with N.A.R. goons Don't go anywhere I'm going to check your hideout This is very important to me You'll be fine I promise Yeah Andate il mio miglior med Non so se scannerizza fino a sopra Però teoricamente non c'è nulla Allora lì mi da Ah cazzo C'è un candelozzo da far scoppiare Sotto Easy Parti meccaniche Ci serviverebbero un po' di erbette Perché tipo A sto giro mi sono fatto veramente Una doccia di radiazione No Dai non era qui Invece sì Arrivo Yes Mia la cernobilite Stenze chimiche Chimiche Ah ah Un riciclatore microprocessore Ah che figata Gli metti dentro la roba E ti dai maz Ecco che cazzo ci possiamo fare con le pistole Che merda Non me lo posso craftare a casa questo Eh vabbè Dobbiamo ricordarci Togli Mettiamo un marker qui Non so se rimane Cos'era questo il porto? È solo che ogni volta che veniamo qui Minchia ci dobbiamo sparare le rad Troveremo mai più la via d'uscita Saremo bloccati qui per sempre Allora da qui Toricamente E poi a destra Mamma mia Lo chiamavano bussola Lo chiamavano bussola Minchia ma c'è già la tempesta Porca troia Go Fast 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 Minchia c'era un mob Johnny Pardon Ma c'ho Uh però non mi ha sgamato C'è il perk nuovo Regà Che mi ha sentito Ha detto show yourself Ma non mi ha visto Però ora Ho la vita del Vabbè Lasciamolo vivo Minchia Come entriamo qua? Questa è casa del tipo Porca puttana Che piano abitavano? Gliel'abbiamo manco chiesto Questa è la Questa è la Questa è la I'm giving you a 10 second head start What? Ma porca puttana Che ansia Sta scaricando la torcia Oh cazzo Dogione bitch Oh morda Me lo giucco intorno al tavolo Non me lo giucco intorno al tavolo Dove cazzo devo andare? Qui dovevo cremaltellare Ma dove? Ma dite che lo devo ammazzare? Oh porca Di quella puttana Ah si Ma non è ripetizione sta merda No mi sono perso quelli per la psiche Non avevo mica il bicchierino anti-rad Ma lo haro easy raga Sono una questione di tempo Chill e ce lo facciamo Ok Sesto qui riesco a doggiarlo Dai Oh se lo faccio sparare Riesco a sparargli due volte io Oh Cristian Anderson Eh mica l'ho parata in pieno Che coglione No No Fuck C'è solo quattro colpi No, ho sprintato Ho sbagliato Perché ha sparato due volte? È meglio non rischiare Voglio sparo solo una volta No, non è over yet È scappato, credo Sì Vaffanculo, figlio della Uedra Minchia quanti colpi che ho usato Quanti cazzo di colpi che ho usato Guarda che ti faceva trovare la K al gioco Se non ce l'avevi Arato Arato Mausi, mausi E però mi segna ancora che devo fare giustamente quello che dovevo trovare qua Ma dov'è? Donde stas? Bella, just con i sei Oh, love i giorni, thank you Thank you, thank you Ma è l'architetto di sti cazzo di palazzi Sì, ma che problemi aveva? Io mi butto in questo buco Fine, ecco Niente, il buco del GG What the hell? Hello? Ah Fine, ho preso la shortcut per uscire Non volevo uscire io Allora Forse in realtà era il primo piano Io dato per scontato fosse sopra Aveva la faccia tipo che viveva al primo piano Quello che ho ben trovato, no? Almeno almeno secondo piano Il secondo è quello dove c'era il boss, no? No Ma se invece fosse dietro? Perché effettivamente No, però vedi Il marker è qui Lo dà sopra Dieci metri sopra Quindi vuol dire che è un altro piano più in su E andiamo su allora, Johnny E allora più in su Volevo volare l'uselin dell'accomare Ancor più in su Ancora di più E che cazzo? Come salgo? È l'ultimo piano Come saliamo? Così cazzo Easy Figa Era proprio un drogato Architetto Altro che palla Ma che roba Proiettire il revolver Non l'ho trovato Cazzo come vado? Ok Qui c'è l'omega loot Come no Come no Bella Chi era con i 43 Welcome back Thank you Thank you Dai qui 25 metri Ci siamo Giovedì 8 Date leggibile Ha persa di nuovo nei miei sogni Il vestito rosso La musica meravigliosa Ci sono momenti in cui mi sembrano impazzire il solitudine mia cara Katia Martedì 13 A volte penso che la beata vergine Maria si è scesa dal cielo e mi abbia preso per mano Per condurmi da te e da nostro figlio Ma gli apostoli mi hanno detto che la madre del nostro salvatore sapeva suonare in modo così sublime L'allegro moderato di Sibelius Solo tu ci riuscivi Nd. 19 Mi sono fatto nuova vita quelle rovine radioattive tra banditi, trafficanti, mostri e anime corrotte Non so perché Forse cercavo un po' di pace o forse volevo punirmi per non essere riuscito a proteggerti Katia Te e nostro figlio Martedì 27 Tornate a farmi visita Questa volta la sua musica era furiosa e sembrava che le porte dell'inferno si fossero aperte Liberando i demoni che vi risiedevano Nell'immaginario comune l'inferno è oscuro e incandescente, tutto rosso e nero Ma in realtà è verde Riesci a crederci Katia Non è mai successo prima La donna col vestito rosso questa volta non ha suonato violino Se ne stava lì tra le rovine mi guardava con una tristezza profonda Ho provato a parlarle Le ho chiesto più volte cosa voleva Non mi ha risposto Martedì 10 La donna con il vestito rosso ha parlato per la prima volta La voce era calma, delicata e dolce Ma allo stesso tempo così profondamente triste Come pronunciasse un addio Ha sussurrato Vattene da questo posto Sono distesa a terra Sul terreno freddo Non mi troverai mai Sono distesa a terra Sul terreno freddo Non mi troverai mai Quello è l'indizio What? Allora abbiamo un candelozzo da tirare lì E c'è rimasto un candelozzo Se scendiamo velocemente A parte che c'era Ma sto rumore? Mi sa che è sotto È la cernobilite che c'è sotto Sì sì Andiamo a tirare sto candelozzo Poi mi devo ricordare di fare E le bombe E i Grimaldelli C'è un altro piano? No, no, no Ok Allora prendiamo Andiamo destra a destra Tutto dritto Porca troia È tutto verde Oh baby, nice Non si vede un cazzo Non si vede Figa Non vedo nulla Ok Trovata Ok Ce ne possiamo andare Dai E questo giochino Molto bello Mi sta facendo un casino Una ranna Tribe of Midgar Poi vediamo Che i dev dovevano darmi le chiavi per la chat Ma non me le hanno date Quindi Mi hanno fatto un po' scazzare Perché sei ancora lì Ovvio Moon È super buono Perché sono giallo? Guarda quanto cibo Che hanno recuperato Mausi Mausi Guarda che bravi Vi meritate Mezza razione di cibo Signorine No, ve la do Tu compagno si arrabbierà? Ok Forza una casa Le pagnotte Neanche la pagnotta Allora Dobbiamo ricraftare un po' di roba Velocemente Allora Partiamo dalle piastre Ancora quattro I candelozzi Da dove minchia si facevano Mi sa che uno Non me l'ha contato Andrò a sua breve Esatto A parte che Se io me le facessi In più da tenermi di scorta Ne mi cani da stupida Però no Sti cazzi Qui facevo i grimaldelli Che quanti ne ho? Due La staccherò da cinque Mi pare che ne facciamo tre Bella Davidesca Con i trenta Thank you Johnny Welcome back Grazie, grazie Allora Dobbiamo rifare Due di quelli viola E tre di questi Ok Ci siamo I colpi I colpi del revolver Mi servono Che però quelli ce li ho Da qualche parte Facciamo così Facciamo così Adesso lo mettiamo giù Questo Fanculo Visto che le randi Iniziano ad essere un problema Tac E dobbiamo fare la dinamite Che non mi ricordo più dove cazzo si crafta Qua 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 Yeah Siamo tre candelozzi E Ci siamo? We are good to go Vediamo un attimo la pistola Se posso pimparla Allora Quindi posso volendo cambiare il tamburo Che ci aumenta il caricatore Che non è male No ci aumenta di uno i danni Prendiamo i danni Che aumenta un po' tutto Va bene Mettiamo questo caso qua Effettivamente noi stiamo usando Praticamente solo la pistola Ma non è che l'abbia Pimpata più di tanto Il grilletto Ci aumenta la portata La stabilità Se ne rincola Non mi va bene così La canna abbiamo Ma vedi che Ah no ok La canna abbiamo già quella giusta Questa lì l'avevo già cambiata Sì infatti Ho quella top damage E il mirino Diciamo che il nostro Ci piace tanto Quindi siamo a posto così È diventata la mitra elettrice di Rambo Esatto Sì guardalo che dondola anche Che bello è Gli NPC non mi interessano Al momento La pappa l'ho raccolta Il loot l'ho messo a posto Ci possiamo togliere Le 3 di radiazione a sto punto E farne un altro Ci caliamo questo Così recuperiamo uno slot Questo lo mettiamo qui Questo lo mettiamo qui E andiamo a fare la nanna Adesso teoricamente Dovrei avere un indizio in più Sullo stalker oscuro Ah minchia No Zero Che cazzo E no Perché effettivamente Non mi ha detto nulla lui La macchina la puoi fare Che macchina Ah dovrei vedere quel macchinario lì Per smontare le cose Ma dove cazzo sarà Miglioramenti della base Alimentazione elettrica Qualità dell'aria L'attrezzatura La costruzione Gli attrezzi a Cernobilite E' quello lì Che ho buildato Mi sblocco la piacere Così E' un'altra tecnologia Credo che sia questo Sai Sì Pum 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 Ah Atrezzatura La costruzione Sì dai Sicuramente quello Qui posti letto Alimentazione elettrica Qualità dell'aria Sicurezza delle radiazioni Eh no Magari non posso ancora Macchina Tegna l'attrezzatura Cernobilite Però non mi sembra La stessa roba Regà eh Però mi dice Puoi avere solo Un oggetto di questo tipo Quindi l'ho già buildato A meno che l'ho buildato Qua sotto Perché c'è una lampada In mezzo Ah vedi è questo Che infatti è solo Un upgrade È solo un upgrade Allora Smerilettrice Sintetizzatore Cernobilite Quello sopra Camera delle radiazioni La camera delle radiazioni Di autodistruggerti Uccidendoti in questo modo Mantenerai tutti i tuoi oggetti What? Questo dispositivo Considerà di utilizzare Potere di radiazioni Per dissolvere Il tuo corpo All'istante Se ti troverai mai In una situazione Senza speranza Ti permetterà Di porre fine Alla tua vita In modo rapido E di indolore E questo serve Se vuoi Morire Per cambiare passato Se vuoi andare In quella roba Di smerilettrice Industriale Proce Grimaldello Trasforma Aspetta Aspetta Quello Ah Riciclatore Un microprocessore Trasforma Gli oggetti In materiali Ok In caso Da questo qui Ricicla la roba Sarà difficile Ma ci mettiamo Dentro il tipo Lì Mausi Mausi Dico Gianni Vieni Vieni a vedere Guarda Ti ho preparato Il nuovo posto letto Tac Lo chiudi dentro E via Abbiamo già dormito Non mi ricordo Però Sono stato nel travestito Al bar Voglio dare racconto Non è sicuro Non è la stessa Ovviamente C'è A volte Devi cambiare La tua pelle Per rimanere Tra i tuoi Enemini Stai Un disquizzo Un disquizzo Certo Sono molto amareggiato Dalla carenza Di mappamondo Di questo gioco Quello è vero Stiff Ti devo dare atto Mancano i mappamondo Bella Orion Quei 37 Welcome back No Serve il momento giusto Perse Non ho capito La cosa della chiave La chiave di che? Cioè Non mi ha dato Abbiamo visto Un sacco di mappamondi piatti Allora Non credo di poter Andare in missione O si Ma Ma non ho dormito Regà No però Se loro sono qui Ho dormito Non me lo ricordo Credi si Ho dormito Allora Abbiamo Occhio di mosca Devo prendere La vecchia Scogna di taracan Ok Che è quella Che mi ha detto Lui ora Potrebbe arrivarsi Preziosa per il colpo Alla centrale Va bene Andiamo Se è preziosa Regà Allora Qui 86 Ci mandiamo lui Qui 99 Ci mandiamo lui E qui 99 Ci mandiamo lui Guarda che ognuno C'è la sua bella mission Dove ci riuscirà Senza problema E ci porteranno Tante belle pagnotte Ma mi serviranno Le erbette C'è sempre Quello 1% No dai Fino ad ora Adesso non so se è stato un misclick Quando il tipo si è fatto Anche poi non è che è morto Si è ferito Solo una volta Ha fallito la missione Quel coglione iniziale Però guarda Posso mettere in dubbio La mia attenzione E dire Vabbè Magari mi sono distratto L'ho mandato con una percentuale bassa Eugenie Chi è? Ah questo qui è quello Con la musica a palla Mi pare Quello che vende le chest Il falso invalido Esatto Finga se è impossibile Sparargli questo fucile E' bello che porca puttana E' scriptato Cioè se tu gli spari addosso Doggia Se no Se tu rimani mirato E dici ok Adesso doggia a sinistra Gli sparo Non doggia Fottuti Alieni O qualsi cazzo voglia siano Mica ho buttato via Un miliardo di colpi Tanno Ryuki Ho buttato via Un miliardo di colpi Fuck that shit Nessuno Oh cazzo Finchè proprio in mezzo alle rad Mi sono messo Pezzi di fango Che posizione De merda Ma dai Figarà dovunque Figarà dovunque Dove minchia sei Johnny Porca troia Porca troia Che male Figarà mi hanno sfondato qua Tra i cosi di prima E questi E le rad Mi hanno sfondato qui Niente Qui il corpo di questo Non lo troverò mai Eccolo Fanculo Dai Tutte le piastre nuove Dove Dovevo andar di qua Noi Niente di qui non si What Ok Si era buggato Figa mi ero appena rifatto Tutte le piastre Ho detto va bene Non me le faccio in avanti Tanto mi hanno appena fatto Sparare di brutto Figurati se c'è un'altra missione Dovevo sparare E invece Ma più che altro Non si vede un cazzo Ah è venuto fuori il giallo Per un secondo Vuol dire che c'è un enemy Come I hope We run into Some rabbit dogs I've always wanted To shoot a dog What Ok Questo è il posto, sì. Ecco là, qua ci sono i mob. Sentirò con un passo incazzato e grugno grugnoso. Allora, uno è là fuori. Era lo stesso? Direi di no. Hello? Gianni? What? Merda, è entrato nel portale? Ah, questo è il posto dove ci si era buggato la prima volta. Dove il mob è entrato nel portale e non è più riuscito a uscire. Vedete che comunque anche adesso il primo colpo non ha workato il... Sei pazzo? Non ha workato il silenziatore? Ciao, Crono! Apro non e chiudo le porte, no? Credo che sia solo per metterti ansia quel rumore. Stiamo andando alla parte giusta? Non so, io sto andando un po' a banana. Seguo le bambole. Quando vedo te, sento le campan... Mano, c'è tanta trattiva... Nono, 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 no... Nono, 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 no, nono, nono, no Ok. Ok, come si va nell'altra ala dell'edificio? C'è un'apertura che ci porta qua a destra, ma a me sembra che sia tutto murato ad ogni piano. Se si accendesse sta cazzi lampadina, dai! Eccola qua. Rapporto che scheggia la nomi in codice di operazione di sottolineare a Dorothy. Come ordini, le mascone abbiamo messo a disposizione di sottolineare a trial disk. Questo l'abbiamo già letto. Quindi qua c'eravano... sì, sì, qua c'eravano già venute all'inizio. Esatto, qua è dove abbiamo preso il... Il coso, l'upgrade per il PDA, come si chiama. Come scendiamo di un piano? Ciao, Franci! Direi così? Ah, qui c'era anche il coso per far scoppiare, go! E questo non eravamo mai riuscito ad aprirlo le altre volte. E allora scendiamo. Qua la missione ci pensiamo. Esatto, un DSWRM3D con un... Un po' di shooting anche. Però qua mi pare che c'eravamo... Già venuti? No. Direi di no. Questi ragazzi, avete presente quando su LOL le partite ci mettono due ore a startare? Ecco, perché la gente ha questi PC qui. Quelli che giocano con questi qua, con il Commander SVM-100. Ok, noi ora ci siamo buttati. Ma come risaliamo? Paloma! Ci si arrampica la grande, proprio. Ok. Allora, noi dobbiamo scendere di un piano, però. Dobbiamo scendere di un piano. Ok, che potrebbe essere qui, che dove c'è... Qui dove c'era il mobone la prima volta. What the fuck? Quel cazzo che non passo? Cioè che passo di qui? Bella, Crono, grazie. Oddio, raga, com'è che era? Una lepre a passeggio se ne andò, vero? Perché la storia giusta era il cacciatore, ma... Come il veleno, figlio della Vedra. Dai, cazzo. Ciao, Cosmo. Non ho premuto niente, raga, è scaduto il tempo. Non pensavo fosse a tempo, non ho cliccato, raga. Oh no, 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 said the little fly. To ask me is in vain. For who goes up your winding stair can ne'er come down again. A verse for you. Bang, bang, hoo, hoo, hoo. The hunter is going to die. You really are something, you filthy fly. You come further than I had guessed, but this ends soon. E intanto il veleno mi cano togli. I'm sure you must be weary, dear, soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. Now, pay attention. He was crawling back home. Uh, and he turned out to be alive? Shit! Now the spider shall suck you dry. Va bene, però era l'ultimo. Va bene, era una mini-esplosione. It's okay. I'm sure these will look good on me. One more thing. My computer. Cioè, ce l'avevo via radio, non potevo chiedergli le risposte. Johnny, mi sono scordato. What am I supposed to do about it? You know how to use Norton Commander? Launch the Rat King program. It will compress the files and upload them to the cloud. Ma brutto coglione! Prima scassino qua, va. Ti rubo tutto. Niente, ho scassinato la casa del... Oh, io so che in Calabria attaccano tipo le salsizze, le salamelle, quelle robe lì, ma... Spero che non arrivino dai ratti. Niente, l'unica parte ordinata dell'edificio è quella non abitata. Non so se devo andare avanti di qui, perché minchia, è troppo enorme. Forse una shortcut. Minchia, mi sono fottutamente perso. Rip. Ah sì, è una shortcut, qua siamo all'inizio. Oh, cazzo. Era qui? Merda. Merda, merda, merda. Omega, merda. Twisted by the merda. Chaat. È il momento di attivare la geolocalizzazione. Chaat. Da dove cazzo siamo? No, non voglio di rifarmi tutto il giro. Ah, questa porta qui è quella iniziale. Ma non ho fatto tanta strada sotto lo scaffale. Che scaffale? Ah, di qui? Brava chat. Best chat. Oddio. No, scarichiamo i dati, raga. Scarichiamo i dati. Ok, darò una scelta. Scendami through it, Terrakhan. Un'opera il computer e type Rat King Death. All other case. This will activate the hidden dot bat file. Dot bat. E' scritto Rat King, è scritto Olmo. Va bene. Andiamo al campo del cacciatore dei rat. Osservazione 22. Gli stupidi servi del re dei ratti stanno pattugliando di nuovo la foresta rossa, come da routine. Piccoli roditori puzzolenti, così tosti, così sicuri di sé. Ma so che sotto sotto hanno paura. Sì, la nebbia di Pripyat è piena di sogni e orrori, ma prima o poi si li prenderà. Loro non possono vedermi. Potrei porre fine alle loro miserabili vite in un attimo. Spezzare le ossa e mangiare la loro carne, ma non ne vale la pena. Io punto in alto. Osservazione 31. Il NAR ha portato un nuovo lotto di topi nel lavoratore alla struttura principale, tutti incatenati e vestiti di stracci. Sembra che provengono direttamente dai gulag. Povere creature, non hanno idea di quello che erano i ratti intenzioni di farli. Morire lentamente in Siberia sarebbe meno doloroso. Oggi hanno gettato un altro carico di cadaveri. Il camion era pieno, i corpi brillavano di cernobilite. Gli sperimenti sono falliti, non c'è dubbio. Osservavo la scena da lontano e sentivo il mio corpo esplodere di rabbia. Avrei potuto fare qualcosa, uccidere un paio di ratti, ma è troppo presto. Per ora dovranno bastare le immagini satellitari delle fosse comuni. Devo raccogliere altre prove. Devo seguire le briciole senza finire in trappola. Qualcosa è cambiato, ma lo sento. Stavo sorvegliando la comunicazione dei NAR, come al solito. Ho sentito più volte un misterioso nome in codice. Parlavano di uno stalker oscuro, non so chi sia. Ma il modo in cui pronunciano quel nome la dice lunga. Percepisco venerazione, insicurezza, ma soprattutto paura. So per scoprire la verità. Oggi l'ho seguito, ho sparito in un edificio abbandonato vicino a porto di Pripyat. E non si è più fatto vedere. L'ospettatore, strano. Era circondato da una potente aura di Cernobilite. Era agile come un gatto e per qualche motivo le ombre lo hanno ignorato. Deve esserci un collegamento. Un camion militare ha avuto un guasto all'incrocio vicino all'occhio di Mosca. Le ombre hanno attaccato un povero ratto che è rimasto intrappolato nei cristalli di Cernobilite. È come l'insetto nell'ambra. Non mi importava, volevo il cristallo. Mi sono avvicinato furtivamente all'improvviso, ma lo sono trovato davanti. È comparso dal nulla. Avevo una maschera nera e verde con il volto della morte. Mi fissava senza tracce di emozioni umane. Ho iniziato a tornare al terrore. In un attimo è sparito. Sono derattizzatore. Dammi la forza. Da solo non ce la faccio. Ho bisogno di aiuto. Hai promesso che mi avreste inviato per scelto un braccio destro, la mia spada. Quanto ancora dovrò aspettare? Siamo noi! Siamo il braccio destro! Siamo la spada! Del derattizzatore! Della derattizzazione! Ce ne possiamo già andare da qua, sì. Do-do-do-do-do-do-do-do! Grazie a tutti. 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 Che visto che gli Enemies stanno iniziando a diventare parecchi... Oh cazzo... Ciao, cazzo... Ciao, cazzo... Ciao a tutti da Sardegna, che bella vita in vacanza... Divertiti... Come la short cut... Come la short cut... Sardegna... Si, ero sarcastico... No, che sono allergico... Niente gatti... Ok... Ok... Mi ha scammato... Ah, minchia, così lo vedo... Cazzo... 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 Ehm... 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 Tu vai qui... Tu vai qui... Tu vai qui... Io, invece... Vado a copaccio... La possibilità che è mio vecchio amico... Ehm... Ok... Questa è la chiamata... Che abbiamo sentito... Ieri, praticamente... Gorghi... Gorghi... No, Dili... Ancora no, non li ho usati... Ehm... E' prima di Shadows of Chernobyl... Non so... E' un altro gioco? Ok... Qui non abbiamo secondari... Let's go... Let's go... Ah... Spammerò un pelino sto rovo... Perché voglio capire se mi spotta veramente i nemici da lontano... Ah, era solo per il tutorial lì che... Me lo faceva spammare... No, 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 no... Niente, è già partita un'attacca... Vaffanculo... E mica ci devo passare in mezzo per forza... Però abbiamo una secondaria qua, vediamo... Però mi sa che è giga rad pure qui... No, manco tanto... Dobbiamo ritornare dentro qui... Ma... Ma figa, ma non ti vedevo, Gianni? Si... 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 No, questo è uno del NAR, raga... C'è un cattivo lui... Non ci vuol dire qualcosa per libero... Un NAR come tu ti ha bisogno di avere qualcosa da offrire... C... C... Cosa vuol dire? Cioè... Tu devi fare aiutarti valutare il mio tempo... Vuoi che ti pagare? Sei vero? Sì... Tsi... Ahah... Pezzo di merda... Ah... Ho un... Un cattivo di segreti, preso sotto una tavola, in una delle vie vicine... Ah... Vieni, mi giudami! Certo... Poi dopo che ho il cattivo... F*** ti! Ci ho promisci... C***o! Little bitch Little bitch Allora ha letto che Emperor non me lo segna sulla mappa Dov'è che ha letto che era, regà? Sotto un tavolo della cucina in una casa qui vicino? Ma non ho visto case qui vicino io Quella lì? Minchia se vado qua dentro mi sciolgo altro che Oh cazzo mi sa che c'è un mob Che cazzo non c'è il filtro? Ma porca puttana Com'è possibile? Ma come cazzo è possibile? Ho capito Johnny, ho capito, ho capito Cazzo Scusami, ma dove me lo dice se c'è il filtro oppure no? Come rimuovi? Ok Eh, richiede un filtro per funzionare Proviamo a correre fast Eh no, minchia mi si snara di brutto il PG Merda, vabbè, niente Vediamo se troviamo un filtro E torniamo dentro qua Minchia quante rad qua Porca puttana La missione del devasto Andiamo, magari riesco anche a craftarmelo Se faccio un tavolo Oh no, ho bisogno di uccidere la mia proposta What? Ma cos'ho? Ma che cazzo? Se pidi troppe radiazioni No, non sono in mezzo al veleno Boh Ah minchia, guarda come me li scanna di brutto i nemici I poggers Poggers Che roba rotta Ah, vediamo Magari anche loro ce l'hanno un filtro Ah minchia Cioè, quelli con la veste pesante non li puoi fare al stealth kill L'abbiamo scoperto ora Fuck that Fuck that Nooo Dove l'ho ucciso Ce n'è un altro, credo Fuck you Un filtro Un filtro, please Un filtro Oh no Ah, hanno ammazzato uno qui da qualche parte Non è che me lo segna con lo scan Fuck Invece sì Scusami, dov'è? Ah ok Questo era quello vestito pesante Questo era lui Ok Niente filtri Sedge Sì, li posso craftare Vabbè, vediamo Finiamo la missione E Perché li trovi Cioè, io a casa ne ho un botto Credo E se non ne troviamo Via Metto giù il tavolino Lo facciamo È che dietro non ho tanti maz Cioè, perché li lascio sempre giù Quindi in caso E vedi, non ho parti di metallo Sicuramente anche solo per fare il tavolino Porca puttana Ah, vaffanculo Cioè, mi ha psiche Ehm Mi piace, sono tutti giga armored No Guarda questo Porca puttana Con le rad a cannone qui Però magari solo sto pezzettino qui Sì No, già mi... Che muoio di rad Figa Ho lasciato un loot dentro questo Resto in casa Ma non mi frega niente che ho livellato Fammi correre Ehm Ehm Ho spuntato anche il cartellino Quando si è rilassato Figa Figa Dall'immagine del tipo quando parla Sembra quello... Sembra quello del meme Che girava un po' di tempo fa Col sorriso tutto tirato strano Quello con i capelli e la barba bianca Gianni Tomic Esatto, Cosmo Steve Con i 43 Thank you, Johnny Welcome back Ehm Ese dubito... Ok Sì 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 Anche i tuoi amici qua fuori E infatti che tra l'altro c'è Tatiana sarà una vecchia a questo punto Chagovna Entraemos che tiene nel senso Che noi due avevamo le spade in mano Quando c'era lei Non mi fa ridere Hai capito? Mascherina Io vado Ma non è che c'è un filtro? Hai un filtro, Johnny? No, eh Non è che in giro per la casa c'è un filtro? Anche qua bambolotti ovunque Oh cazzo Anche qui si possono droppare i filtri però, eh Pare che una volta me ne ha tirato giù uno What the hell? È chiuso? What the hell are you waiting for? Rapporto blabliblu Oggetto test 56B da nanosoluzione di Cernobilite Esemplare maschio adulto 188 cm e 97 kg Dolore post-operatorio Estrema agitazione Depressione respiratoria indotta dal fentanil Iniezione Terapia Iniezione endolinfatica di una combinazione di analgesi Vabbè, gli ha messo il Viagra L'osaggio di Aumentato a 80 ml Da 60 ml Con valore basale di 40 Nalbufina 300 mg QB in poche parole Nalbufina QB Procedura alle 6.33 Orario di Jesus Iniezione alla nanosoluzione di Cernobilite Si attiva al 5% Dopo 5 minuti e 32 secondi È iniziato un marcato processo di rigenerazione dei tessuti Dopo 2 ore Le parti dell'apparato digerente Che erano state volutamente rimosse Cistifendi a fegato Dotto epatico destro Milza e parte del pancreas Erano già completamente rigenerate Alle 8.33 È stato prelevato un campione Dall'esemplare L'esame del microscopio Ha confermato la presenza di un nuovo tipo di cellula Le cromocellule Simile alle cellule cancerose L'origine della mutazione genetica Rimane sconosciuta La nanosoluzione di Cernobilite Potrebbe essere un vicolo cieco Per ora solo due soggetti Hanno mostrato risultati positivi Consiglio allo sviluppo Di una nuova tecnologia Di manipolazione di genetica Cernobilite Ci vorrà molto tempo Ma sul lungo periodo Avremo risultati migliori Bella Steam con i 46 Thank you Johnny Thank you thank you thank you Thanks God for the radio When I'm on the road E Sure Grim Con i 36 Welcome back anche a te Grazie Allora niente Qui purtroppo abbiamo fatto Ci tocca Vediamo se riusciamo A mettere giù il tavolino Trappole mine No Attrezione per oggetti Potenzialmente delle armi Unguento Munizioni Filtro per maschere antigas Scusa fammi vedere Vedi che non ho Forse devi averlo nell'inventario Bella Prezzi con i 25 Un po' che non ti vedevo Come stai? Secondo me rega Anche con la maschera Quella parte lì Non ci puoi andare Proviamo a tornarci Comunque Vediamo Trascina di loro sopra Ma no Ma che Ma non l'ho mai fatto Adesso non so se Magari non ci ho fatto caso Ogni volta che capitava Che usassi la maschera Avevo Porca troia Figa c'è solo 9 colpi What the hell Minch sta arrivando il coso Vaffanculo Pass 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 Via 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 Viagare Era convinto di essere passato Di qua Ah no Ho fatto il giro largo eh gotta go fast eh vedi adesso non mi da nessun problema si devi averci nell'inventario oh la casa potrebbe essere questa qui avevamo detto nel pavimento dove che aveva detto regà uno scompartimento segreto dove dovrebbe essere questo qui eh però infatti diceva il tavolo della cucina ma non vedo cucine perché questi qui non sono propriamente case sono mini edifici ve lo andiamo a provare sui saluti questo l'abbiamo già letto andiamo a vedere le altre case qui eh minchia il problema è che porca puttana la tempesta forse era quello che abbiamo preso nella prima però ripeto non c'era una cucina si dai vaffanculo evitiamo di prenderci le giga rad per niente e il tipo lo lascio lì coglione dopo tot arriva anche lo stalker che credo anche se prima l'ho ammazzato però vabbè è scappato cazzo me ne frega regà è uno dei cattivi bravi che mi portate il loot bravi amici vi meritate la vostra pagnottina poteva redimersi lo sta facendo infatti what the hell dove c'è la cappala allora quindi dobbiamo fare due cure uno per le rad ah vedi il filtro è andato a 1.2 vedi come vuol non mi guardare gli armadietti quando siete in giro per casa vabbè ma quando mi fissate gli armadietti mi mi girano i coglioni che mi prendete il loot cazzo non mi prendete il loot allora questo lo mettiamo giù adesso lo possiamo mettere giù alla fine trade ne stiamo facendo pochi vaffanculo metto giù anche sta roba qua abbiamo 40-50 colpi della pistola che però adesso sto usando molto di più il il fucile visto quanti nemici ci sono quindi ci portiamo un po' più di colpi del fucile abbiamo il cibo che quello per tradare a volte capita li puoi craftare cosa? i filtri si ok potrei farmi anche delle piastre in ceramica di scorta dai quanto sarà la stack 4 sarà da 5 dai ok vado in giro con l'inventare un po' pieno però sti cazzi intanto vedo che ultimamente stiamo facendo missioni in zone che abbiamo già fatte quindi il loot è poco in realtà però forse ho veramente troppo loot dietro posso lasciare giù una stack di colpi nel revolver questo che non lo sto usando anche le boccette per le rad va che tanto uso le bevande per ora meddoni li possiamo tenere si dai così gli starlight cosa sono gli starlight? dici che i mob diventano più forti col passare dei giorni o col livello? credo col passare dei giorni più avanti più la gente è cazzuta infatti adesso c'erano quelli armor cioè lo vedi che fai più fatica a ucciderli i mob cioè prima li washottavo tutti dimmi Johnny e tu cambia fucile purtroppo ho il miglior fucile in circolazione allora 86 86 86 99 86 allora tu vai qui tu vai qui e tu vai qui noi andiamo al trasporto d'armi l'equipaggiamento è in area molto ben protetto le casse sono chiuse con dei codici cifrati le armi richiedono una conferma biometrica dall'altra parte alcuni oggetti pronti a trasportare potrebbero arrivarsi più accessibili è un'opportunità che non posso lasciarmi sfuggire finchia è proprio la missione di lutare guarda eh vabbè let's go non si può pimpare il fucile l'ho già fatto è già è già tutto pimpato mette zizzania con tutti sì sì lei è la è la raffigurazione della cattiveria è armato i ragazzi sì hanno parte 1 mi pare che hanno tutti no hanno tutti la k e i giubbozzi sì vedi alla fine del secondario mi sa che l'abbiamo fatto ormai nelle varie zone abbiamo giusto le main da fare siamo stati bravi siamo stati bravi fischi fischi sì ma fammi scannare mi sembrava solo due il cazzo no Johnny rimani girato rimani girato e la merda che vedi essendo che ci sono quelli armored non non li puoi backstabare loro cioè sei costretto ora a sparare a meno che usi le trappole sì vabbè ma le trappole sono proprio da pussi sono un cheat le trappole in tutti i giochi figa ho già usato tutte le piastre che avevo porca di quella puttana mi avevano già zerato l'armo really ne ho ancora tre ah no ok le ho messe qua sotto ok ero convinto di averle messe sopra ok qui ci sono già venuti 20.000 volte si vedi però il loot un po' respawna non ne respawna tanto come all'inizio ma credo secondo me il loot respawna in base ai giorni cioè ogni giorno spawna qualcosa quindi se tu in una zona non ci vai per tot tempo quando torni c'è più loot invece qui essendo che ci sono venuti tipo ieri un paio di giorni fa eh uh non c'è un cazzo o comunque poca roba più passa il tempo sì 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 anche secondo me è così olivier andiamo a prendere il loot it's loot o'clock it's loot o'clock mi ha detto di essere sneaky sneaky it's too easy for me niente figa mi sono spaccato vabbè non mi curo che magari mi arrivano le rad effettivamente stare full vita è un malus mi conviene rimanere a mezza vita così se mi piglio le rad almeno non mi scende la vita perché se tu sei curato e ti pigli le rad quando ti togli le rad ti manca la vita no te schizzo ah visto che è stealth o'clock facciamolo diventare anche se l'auto o'clock quindi ricordo a tutti quelli che vuole essere un supporto dello stile di pigia del testino abbonati ricordatevi con i prime gratis e se l'avete già fatto con i prime ricordatevi che ogni mese dovete ripigliare il tastino perché non si rinnova in automatico sbloccate le emote non vedete più la pubblicità diventate belli 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 in modo assurdo ma soprattutto supportate lo stream questi li possiamo schippare evitiamo di farci sparare però che faccio questa cassa qui non ha luto arrivo prendo e me ne vado camperatine in mezzo alle rad e ascolto non ti far spottare li devo per forza uccidere questi quello è pure armored a me non mi sembra bella titus con i 13 oh no thank you johnny welcome back e sure red con le 3 sub gifterine thank you so much no johnny non vuoi venire di qui bravo ce n'era un altro che porca puttana sta venendo in qui cazzo di patrol fanno so sneaky so sneaky secondo me c'è un altro anche di là perché sentivo i passi eccolo lì no l'ho smirato really what the fuck minchia certo che sta macchia rossa da fastidio what oh la madonna è mortale questo che male what the fuck togli sto zoom non si può togli madonna mia godlike questo bella caccia che la regala ingegner cane thank you thank you che male eh si loro ci sparano attraverso le tende i mer cioè non so se funziona anche con i miei devo provare a sparare in mezzo a una tenda non a tutti i torti beh però farlo esplodere no dai è un pacchettino solo di ammo ho preso c'è fai vedere tutto sto bordello per 10 ammo me le craftavo no tre razioni di cibo ho preso rilli ma prendi un po' di roba no ma pur cud eagle è stato scammatissimo raga sono stato scammatissimo isi isi isissimo ormai loro super bravi ormai loro super bravi mica mi è andato a puttane la psiche tutto allora vediamoci due di questi una corina ce la tiriamo dai e dobbiamo fare quattro placche più le cinque nove però conviene ogni volta spararmi tutte queste placche è perché le parti infiammabili non lo so vabbè teniamocene e poi valutiamo raccogliamo il raccolto queste va bene mettiamo giù 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 perché ho uno slot libero lì per questo che bello era di isquard madonna di isquard giocone possiamo fare la nanna robe nuove solo stalker non ne abbiamo adesso andiamo di missione main in missione main che perché le zone secondo me le abbiamo viste tutte fatemi cambiare un secondo anzi esco che magari parte il dialogo mentre cambio la batteria eccola ah è affanculo sasco quanto stalker fuori di testo è davvero no potremmo scoprire cosa vuole questo siamo gentili non sembra essere gentili non tutti gazzano chiammi sasco possiamo aiutare l'altro possiamo aiutare l'unico giù giù sì un giù 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 masco comunque sembra che stiamo cercando qualcuno potremmo un'altra forza altrimenti non ho amico per questi droidi hai con sono in mio modo come sai che stiamo cercando qualcuno por era un cattivone urban e poi sono convinto che l'informazione che mi ha dato era sbagliata perché loot se era quello non era sotto un tavolino quindi ha provato comunque a fotterci e io non dimentico l'unico di venezia vorrei licenziarsi e passare dalla mia parte non so perché ma ho intenzione di scoprire lo stasco mi sto aspettando in un bar apri piatto ok 86 86 99 98 va bene 86 86 73 88 let's go non credo che si chiama l'esame finale ma no non esatto messaggio velato chi non risubba sashko è un vero daredevil ok ma come tutti qui probabilmente ha il suo magenta guarda il passo igor ai 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 che siamo ai minimi storici con il subcount i minimi storici i minimi i minimi ok ok andiamo giù oh guarda che belle le giornate di non so se alba o tramonto ma comunque in questo momento dove figa si vede bene non c'è la sbubba sul a schermo non è tutto verde porca puttana c'è anche un altro là dai che c'è uno di vita ok ok e purtroppo ragazzi c'è un problema di sensibilità grave nel gioco che non posso fixare perché la sensibilità regola viene in una maniera veramente stramba ed è troppo alta quando sparo quindi faccio una fatica bestia a sparare però se l'abbasso quando è così è troppo lenta quindi preferisco fare un po' più di fatica nei momenti in cui devo sparare e chillare di più durante il game no questo è psiche piano di sopra come piano di sopriamo come si sale sopra hello darkness my old friend no 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 notte James dormi bene proviamo dall'altra parte no 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 oh cazzo eh non posso andare di là io ma da qua Ah, hai dieci minuti di arrivare al terzo piano all'ospettale di Pripyat, ti sto guardando, non varare I'm watching you Corri cazzo, gottago fast Allora, tiriamo tutto dritto, poi costeggiamo sinistra-destra Col cazzo che vado di lì, me lo ricordo quando mi sono spezzato il ginocchio Me lo ricordo ancora Un sbagliastrada, cazzo Cos'è? Oh cazzo Dove minchia è? Ho fottuto spolverino Vi odio degli spolverini Tra l'altro finchè non... Via cazzo, ce la fuggiamo dagli spolverini Oh shit Oh, nella schiena, cazzo Uh Non chiede se ti spapolano, se ti spara nella schiena Oh da el Cos'è sto effetto? Just one guy, one guy, get him Oh fucker's vanished, we gotta find his ass Vaffanculo It's just one guy, one guy No, questo dovrebbe essere l'ospedale, no? Sì Che piano ha detto? Terzo? Terzo? Eh, quello conta come piano terra come primo Oh, non lo capirò mai Vabbè, ho questo o quello sopra Qui dove eravamo prima? Ah, è la parte dove devi salire Quella roba rotta Dov'è che l'avevano trovata prima? Forse una di queste si apre Non è la storia che abbiamo fatto prima Ma va bene Che cazzo perché... ok qua Cioè posso è questo, ma prima non ho dovuto far suo giro Ok, siamo al piano richiesto Che collo lungo L'uomo giraffa Ti amo bella Ciao ma bella Now go, vado Cosa devo fare? Oh shit, si è buttato pure lui? Ok Non gli facciamo nemmeno rispondere, regà Cioè gliel'abbiamo ordinato di joinarci Ok Sì sì sì, l'abbiamo lanciato dentro prendendolo per il collo, cazzo Sembra uno cazzuto, questo sembra pazzo Sì può essere che mi insegna tipo a correre più veloce con le puttanate lì Provato mesi fa in New World, giovano È vero più che rinforzare nella zona irradiata E giocando tag con un'armi di mercenari Perfetto Come ho detto, possiamo aiutare l'altro Ma comprendi questo, è solo una partenza temporale Ti sei bruciata malissimo in bagno? Come ti sei bruciata in bagno? Come ti sei bruciata in bagno? Ho fatto ciò che ho chiesto di me Mi sono pagato e lasciato E' questo è l'inizio Ti ha detto che stai cercando qualcuno Chi? Ciao Frito Con la lampadina ha la luce sullo specchio Ti stavi schiacciando un brufolo e... hai dato una testata alla lampadina? Aia Ciao Nick Perchè sei diventato Nickscam? Perchè sei diventato Nickscam? Ok Allora Tanti mi conoscono per i miei scam Mamma Ah Ah Minchia le parti infiammabili regà stanno andando Ah stavi cambiando la lampadina con la lampadina... e vabbè cazzo Furbizia però lì eh Se la lampadina l'è appena spenta devi sempre farla cambiare agli altri Mai cambiarla tu Ah è vero dobbiamo fare un letto Ah allora avevamo un letto libero a dire il vero Ah no siamo a meno uno cazzo Miglioramenti Facciamo un altro letto a castello Questa ne facciamo uno in avanti anche e via Allora Mettiamo giù il loot Pla 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 Allora siamo messi in malino con le ammo del fucile Secondo me non ne ho neanche tantissime via Eh già Dovremmo usare un pelo la pistola però adesso mi chiesto una giga armor ed con la pistola non gli faccio più un cazzo Ma se l'ho appena fatto Ma se l'ho appena fatto Ma l'ho appena fatto il letto stronzo Ma secondo me è buggato Eh E le scottature sono brutte cazzo Si Puoi correre più velocemente e atterrare senza rischi di qualsiasi altezza Cosa? La barra della salute aumenta di 3 punti Il fucile alla caccia Danneggia 25 per Infligge 25 per danni di più i nemici Sai che secondo me Fucile alla caccia era OP e non l'abbiamo usato Barra salute 3 punti Non credo che mi serva Facciamo un parkour sicuramente Che magari c'è il tire 2 che puoi correre e non ti sentono come se snickassi Eh partner Welcome to the maze This is a new trick and you're an old dog But what the hell It may even save your ass You're welcome Please don't make me regret setting this up for you It was a major hassle Anyway I get to test this train ground on you Your job is to enter the maze and find the exit as fast as you can But keep in mind It will require some stretching Just follow my lead and try to keep up Ready? Let's go Let's go Eh cazzo è scomparso Ma che cazzo Be careful how you land Lead with one foot and I'm mightily impressed Igor You made a great addition to our gang back in Moscow When I was running for a year at the break Anyway, it's good to exercise at your age È per il collo che va così veloce ragazzi Perché lui ci sente avendo il collo lungo Vede prima se deve saltare o abbassarsi E fa in tempo a ragionare su quello che deve fare e farlo Allora allenati Allora allenati Parkour perfetto Può correre più velocemente Può correre più velocemente Atterrare senza vista da qualsiasi altezza E va bene Va bene Va bene Corriamo ancora più veloci Ah un riassuntino E siamo Siamo qui Alla ricerca della nostra ex ragazza Che è scomparsa trent'anni fa Ma ci si manifesta In sogno E stiamo tentando dopo il casino di Chernobyl Di scoprire dove cazzo è finita Oh cazzo Ma dove minchia E jump E niente Praticamente hai una base da gestire Hai un team Da tenere felice Devi dargli da mangiare Non è andato Bella Genster con i sette Ciao Dante Ti sta piacendo questo gioco? Sì molto bello Questo è molto bello Farai grime Non lo so L'ho visto Mi sembra carino Ma ce n'è tanti di quel genere più carini per me Quindi non credo Ok Perfetto fatto Cazzo 25% di danni in più è un botto eh Allora facciamo una roba Prendiamo un merdoso fucile da caccia C'è una roba dove pimpare fucile da caccia No vero è l'unico che non ho fatto Non l'ho fatto qua sotto vero? Vabbè buildiamo la roba per il fucile da caccia Fucile da caccia Fucile da caccia Allora Cioè vedi tipo Non c'è il danno nominale No vedi ha 5 tacchette di danno Questo invece ne ha 7 Però non è uppato Quindi vediamo quanto riusciremo a portarlo in caso Ma questo non gli aumenta il danno Sì Volendo lo portiamo a 6 Però vedi è un pompa questo Ok Questo è un pompa E non credo di poterli mettere tipo il silenziatore No questo teoricamente ha uno di danni in più Però col perk del 25% Che potrebbe magari aumentare perché me lo treina magari anche al 2 Però il 25% è uno di danni in più Questo spara ripetizione E' più preciso la cappa Sicuramente no Teniamo la cappa Userei fucile giusto perché ho infiniti colpi del fucile da caccia e non li sto usando Invece questi della cappa ormai li sto finendo Però scusa dove cazzo Dov'è che si facevano le ammo? Ehm Ce l'ho al tavolo per fare le ammo? Non so che non ho mai fatto manco quello Perché abbiamo sempre campato di rendita Ehm Inventario di attrezzi per la produzione Banco d'armaiolo Produce munizioni Let's go Allora tipo munizioni e rifugine cosa costano? Parti infiammabili Ok Quante me ne fa? Ne ho 77 Ne ho 77 10 Ok Ehm 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 Va bene Let's go Let's go Ehm Terminando la base in cattive condizioni Ah cazzo è vero che c'è il C'è la bellezza da fixare mi sa Comodità 40 Guarda per sicurezza faccio un altro letto Perché non vorrei che il tipo rompesse il cazzo per i letti Perché Li ho messi prima che si lamentasse Sto minchia ti metto il letto reale del vaffanculo un po' più in là Ok Ah è vero devo anche mettergli Devo anche dargli l'equip a lui Minchia un altro tipo da sfamare mo Glielo metto sotto la scala E' vero è vero aspetta che devo anche equipare tipo E non ho più AK da dare in giro credo Forse l'ho lootato uno No un altro AK e devo fargli il giubbottino Che palle oh Quanto mi costano questi Quanto mi costa una risposta da te di su Quante Ma carichette perché il lavoro faccia fatica Ci sono già su youtube gli stream fino ad ora di questo gioco Quanto mi costano Che cosa mi costano fare 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 Ha 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 Ho lasciato un po' di plastica Nel mio vecchio hidey hole Tra l'ho qui E ora farò a lavorare E' pronto Che cosa mi costano fare E' con questo gioco E' con questo gioco E' con questo gioco E' con il gioco E' con il gioco E' con il gioco A domangi Allora Quindi adesso abbiamo quattro missioni Perfetto Perché io mi segna che sono giallo Perché sono messo un po' di merda Fami craftare altri due Sali balsamici E uno per le rad Beh c'è da dire che adesso vendono i quattro chemi Costano quattro di cibo Che credo che comunque me lo portino quasi sempre loro Comunque ne ho Però me i mazzi in generale li faranno questi stronzi Allora tu novantatré Quindi vai qui Tu novantanove vai qui Tu novantatré vai qui E tu novantanove Che culo Li ho messi a caso Sono usciti perfetti E noi andiamo a fare la main Let's go He 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 Something explosive He 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 Allora Ok Sashko I'm in position You should find the place no problem It's in a one way story building on the perimeter of the Muskawai I think I know where it is Ok qui abbiamo un paio di secondarie Oh cazzo Che cazzo l'aveva visto? Fuck you Eh però minchi è vero non fa più un cazzo la pistola raga Eh è vero che di qui mi sa che non si apre sto gate vero? Invece si Quindi questo gioco merita parecchio A me no A mon avis A me sta piacendo Forse ho un po' poche mappe Forse ho un po' poche mappe Che effettivamente sono sempre quelle 3-4 mappe che girano Quindi può risultare magari brutto per quello Però è l'unica L'unica pecca diciamo Eh forse Eh minchia però il pompa capisci che devi andare tipo mi lì Posso mai usare il pompa? Però tipo anche la parte stealth è mai diventato un casino da fare Perché essendo che ci sono quelli che non puoi più Killare perché hanno l'armor Cioè se li devi Se li devi sparare minchia si allertano tutti i GG Anche perché moco il fatto che ho quel cazzo di perk che gli mette sta macchia rossa Faccio veramente fatica a capire se è quello con l'armor o no Cioè purtroppo dovevano fare che una volta che lo spottavi visivamente quel perk lì andava via What the hell? What? Come cazzo mi hai visto? Era una fake texture quella Era una fake texture quella Era una fake texture Scusa sono crociato Vuoi vendere qualcosa? Hai trovato qualcosa veramente valutante? Allora, una maschera anti-gazzo di cibretti del fucile Una piastra di metallo per quattro del revolver No, vaffanculo, non mi serve niente di tutto ciò No, tè per pollo No, siamo a posto così See you later Ah, minchia, ma adesso po- Ah no, si era- si era buggato, ok Perché mi faceva sprintare la crocciata Quindi allora Se il tipo non ci ha scammati Ora noi ci lanciamo e non ci facciamo niente Cazzo sì Poggers Minchia, primo salto del gem Perdevo tre quarti di vita, eh Figa, salteremo dai palazzi ora D'Artagnan Tanta sui tetti Cip e vecchietti Che ti petto D'Artagnan 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 vuole tanto Diventare moschettiere del re Ma per ora è soltanto Apprendista moschettiere del re Ha coraggio ma Non ancora sa Come l'otto moschettiere del re Fa- pa- 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 pam Si arrende mai No 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 E così come schettiere Complia solo avere D'Artagnan No 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 Vabbene abbiamo preso la Fragenü Lovegate e ce ne possiamo andare No 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 Va bene abbiamo preso la Чernobilite e ce ne possiamo andare Che bello è la cartone di D'Artagnan, cazzo Bellissimo Bellissimo E vedi, tipo, questo che c'è nel metto non lo posso più one-shottare O forse sì Forse nel metto chiuso che non one-shotti E nel metto chiuso che non one-shotti Porca troia Fottute piante! Luta sti funghi, dai Devo pure irradiarmi per lutarlo, sto stronzo Via, via, via No, non un'altra tacca Tre tacche al massimo Quindi adesso mi sparo questo, così Oddio Dove minchia sei? Come flank him? Sei rimasto solo tu, brutto coglione No, no Oh, shit I was reloading Ciao, Vincent Bella, Adre Com'è? Pollo tacchino Pollo Sempre Solo se ha la pelle, però La coscia Petto di pollo un po' me Ciao, Icon Tutto a posto, dai Ti va avanti Allora, dieci metri Ok Ciao, Randallone Ti a posto? Come? Ah, pensavo stesse per schiacciare quel tastino Eita Ma io non lo assecondo Ma io non lo assecondo aula Cic cic Ciccic Cic 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 che simpatico ragazzi armamenti veri per uomini veri let's go cazzo datemi una finestra aperta che con il mio nuovo perco voglio saltare dalla finestra voglio testare i limiti dell'altezza del mio PG dai che è arrivata anche la tempesta cazzo corri peppiniella ma non sembra però che il PG il PG i l'alte but it's crawling with any soldi look like they know about the stash any ideas fuckers they must have spotted me earlier a little head up would be appreciated next time mmm hey you got this men you better this shit than you give you so credit for thanks but you break up unruzzon signal eagle signal vedi questo aveva il caschetto ma mica l'ho visto vaffanculo minchia la mia psiche è andata a puttana raga pure oh porca di quella puttana minchia lo posso doggiare però gliel'ho doggiato deixando di lato l'alte andrino this is not going to hit well for you arato cazzo fottutamente arato fiff fiff ff frego frego vada ferra di bal ah e quando lo uccidi finisce la tempesta Quindi praticamente arriva la tempesta Il culmine della tempesta è lo stalker che arriva E poi basta E il galbel temp Cos'è quel punto di domanda? Un bellissimo bug Ah no Tentare a non creare Vladimir e Cilenin Rettore 4 Impianto top secret Passi di sicurezza con accesso speciale Stalker oscuro Ah gli è caduto? Mi sa di sì Mi sa che gli è caduto lo stalker quando l'ho tirato giù Oddio sai che non ho fatto caso la prima volta se... No dai l'avrei visto nella mappa Uno, due C'è la stunter E tre No quello è giga armored Quello caschettino Cazzo proprio di qua No shit Nice E quello sta rigirato tutta la vita Vediamo se posso fare la stalker a questo Non mi sembra che abbia il giubbottone Quindi teoricamente possiamo Ok Ok No quello non si gira a quanto pare E niente è andata male Speravo di one shotare quello E fare questo stealth Perché non avevo voglia di aspettare tutto il giro di patrol It's ok guys We did endolete anyway Sashko I found your components Glad to hear it For a moment there I thought I might lose my favorite partner in crime Was that supposed to be humor Sashko? Not bad for a first try Mission accomplished Cazzo non c'è loot Non c'è mai loot in giro Vero randolone Capione mondiale di stealth Me è mancato io No non ho mai mangiato le poc Però ieri l'ho fatto in stream Cosmo droppato dopo poche ore Stix ieri visto che grazie a quel fantastico gioco che abbiamo fatto di cui non mi ricordo già più il titolo ci sono state delle challenge quindi qualcuno si è ricordato del tastino Donate visto che le mie challenge vengono sempre vinte dallo streamer ho ordinato la pizza ho detto vabbè evitiamo di farla per una volta e la ordiniamo e ho preso una pizza regà troppo troppo buona e voi mi direte come l'hai presa e vi dico non me lo ricordo ma se apro Just Eat ve lo dico perché era talmente particolare che non posso ricordarmela spesona oh guarda ti dico eh ordini allora ho ordinato due volte da Just Eat nel 2021 e tre volte nel 2020 poggers allora fammi vedere eccola qui espandi eh devo tornare sul menu un secondo eh mozzarella pesto ricotta panna specchie grana era una di una pesantezza allucinante perché era pesante però era di un buono regà oh l'ho vista ho detto minchia la pizza col pesto mi piace un botto panna ci sta grana lo adoro c'è la ricotta che non lo so ma era di un buono regà sta pizza era di un buono bella semi del Q48 love you Johnny welcome back grazie eh l'ho abbandonata a tre quarti l'ho finita ci ho fatto la cena oggi con il restante ma era veramente buona 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 buonissima regà anche perché giustamente essendo che noi la facciamo sempre in casa la pizza non è che le mangio mai con i condimenti strambi le mangio abbastanza standard quindi quando capita quella volta ogni vent'anni che la ordino tendo sempre a prendere qualcosa di un pelo strano allora dobbiamo rifare le piastre anche se sono no cazzo full eh ma vedi sto sciacquando secondo me oh sto spendendo meno in cure vedo eh però minchia guarda le piastre le parti infiammabili mi full e basta no cazzo non ho fatto una in più vabbè io ho già fino a 500 metri prossimi non arrivano fino alla mia via e così cioè scusa mi hai voluto la casa da ricco con la piscina e l'hai fatta a 100 metri pilla per evadere le tasse italiane e adesso paghi prendi la macchinina e vai a prendere il Takavai no 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 assolutamente si va a fare la simulazione dello stalker oscuro let's go bella Toro io sono appena tornato al ristorante dovevo mangiare una pizza e siamo finiti di ordinare tre primi no minchia che non vado a mangiare fuori che mi siedo proprio a un tavolo no saranno tre anni credo è una vita che non mangio fuori cazzo mi ha detto che è brutto mi ha detto che è brutto oh sì ovviamente sono molto felice di ascoltare che è tutto nel passato ora ha detto a Boris che è brutto bene allora siamo inizialmente vorrei vedere alcuni risultati come possibile abbiamo bothi che è la chiave abbiamo costruito abbastanza tempo abbiamo costruito abbastanza ok non facciamo niente rash per favore bisogna seguire i protocolli quindi mio amico Boris ha lavorato con Semenov anche dopo il desastre mi ha pensato con il risultato e Tanya è la chiave la chiave a cosa più segreti ho devo continuare gotta keep digging gotta keep digging il risultato Sono troppo agressivi, mio amore. Ti ho detto che stai utilizzando troppo, non? Ti ho detto. Tu sei fortunato che non è finito morto come gli altri. Ma qui siamo. Boris è morto, davvero morto questa volta. Non c'è motivo per pretendere così ora. Credo che dovessi aver visto questo arrivare. Le progetti mentali che mi hai detto, le visioni, sono stati costruendo un po' di tempo. Porca puttana. Per essere sincero, ho pensato che le vostre hallucinazioni significavano che stessi perdendo la mente. L'esposizione prolungata ai chenobili molto causa psicose e asteria, dopo tutto. Perché? Ho visto i soggetti di test babbliando su Cthulhu, o vogliono salvare il mondo. Cthulhu! Ooooooooooo Che cosa è che hai fatto? ti hanno fatto questo mio amore tu ha incertato Rubicon tu hai avuto una cosa che nessuno ha avuto mai avuto beh ma che dora hantate quella ma che di lei ha avuto un'intensità tu va essere la prima tu va aiutare i miei a portare un'era di evoluzione di umano Ah, quindi Boris è diventato Lo stalker, credo Dopo delle flexine, non so Se lo finiamo credo di sì Però non so se lo finisco stasera A meno che dopo questo mi fa fare il tabellone Perché effettivamente l'abbiamo fatte queste Non lo so come funziona Perché noi la nostra missione finale È riempire di cose il tabellone Adesso abbiamo l'esplosivo, il tipo del parkour Eccetera eccetera Cioè teoricamente abbiamo dovuto Tirare sulla banda per fare il colpo noi Sì, vedi Beh, Lady La main dovrebbe durare una decina di ore Penso che ci siamo Allora sì Ma ripeto Come si dice Col fatto che abbiamo trovato tutti i vari tipi Secondo me il tabellone è un po' che non lo clicco Ora lo clicco e vediamo cosa mi fa fare Vabbè ma allora ti consegno Randolone È solo Just Eat che non consegna Just Eat non è che dici che è giusto la comunità di avere tutto da un sito solo Tuo lavoro è di sostenere questa operazione Non mi insegnare su di cose che non dovrai mai arrivare a capire In fact, the board wants you to cooperate closely, very closely, with my right-hand man. I would like you to familiarize him with all of our security protocols. Who? The freak in the black mask? You want to tell me who the hell he is? I'd like to know who I'm working with. If you need a name, call him what the rest of your men call him. The Black Stalker. The Black Stalker. I know you don't share my views on the future prospects of this organization. But don't even think about throwing in the towel. If we fail, there will be hell to pay for both of us. There is no walking away now. I'm walking away from all the troubles in my life. I'm walking away. The Black Stalker is somehow responsible for creating shadows. We've got to find a better day. Or at least releasing them into the world. And Boris, the Black Stalker is also involved in N.A.R. security. Dov'è il portale? Grazie. Mi sta piacendo molto, Dennis. Mi sta piacendo molto. Vediamo. Vabbè, adesso sicuramente o mi triggerà la radio. Vabbè, Igor. Ah, io ho questione sa di J-Bait. Mmmmmmm. Mmmmm. Non lo so. Questo mi sa un po' di J-Bait. Ah, abbiamo 5 punti skill, però. Ah no, non mi posso neanche trainare di giorno. Fuck. Niente. No training for us. Ehm... 93. 99. Ah, lui l'ho già messo di là. 86. Manca solo lui? 86. Let's go! Could this be a turning point, Igor? Having such a powerful ally in this place could change everything for you. But then again, you've always been so trusting. I hope it won't be your downfall. Comunque sono distrutto che i bambini eravamo a fare una camminata nel bosco e non ho riuscito a cacarsi in mano letteralmente. Cosa vuol dire che un bambino si è cagato in mano letteralmente? Cosa cazzo vuol dire? Fina, non devi farli diventare come te quei bambini lì. Cioè ma a te te l'hanno fatto un test prima di autorizzarsi a stare vicino dei bambini? Ehm... Porca puttana le rad. Che due coglioni! Eh, non mi she spotted! Vaffanculo! Minchia! Mi sto sciogliendo! Curale al volo! Sìèèèèèèèèèèèèèèèèè sempre peggio! Guardate dove cazzo! Vaffanculo va Stava facendo una carta Pensava di finire Se hai iniziato a pulire Non aveva finito Ma quanti anni hanno Sti bambini Sì per caso Non è che la tua squadra Si chiama squadra speciale Juchuma Certo è andato con gli scelti Cosa vuol dire non si è accorto Che non aveva finito e iniziato a pulirsi Figa La Juchuma scuota Esatto Ma mi sa che ci sono i mostri qua Sì sì sentilo come ringhia E ancora più su dobbiamo andare Bastardo Pensa che sono addirittura due Devo salire ancora What the fuck Cazzo di fine ha fatto zio Carlos Guarderai talk show E poi c'è stato un fiume sulla sua mano Cosa vuol dire un fiume sulla sua mano? Ma che schifo Juchuma Basta cioè Sembrava una cosa divertente E è diventato una merda Devi prima seminare i tuoi nemici Johnny se non si palesano Ok Beh Allora Prima di fare lo streamer Io facevo il mappologo E quindi mi sembra chiaramente Una mappa Particolarmente fatta bene Porca trova Ecco sentivo un elicottero io C'è un boss Sapevo che era un bait Ma chi cazzo è Mozart? Allora Potrebbe esserci informazioni prezise Nella barra dei NAR Se gioco bene le mie carte Potrei anche cavarmela Bella Blue screen con i 22 E nulla Dopo due anni mi sono preso il covid Per mezz'ora di piscina Eeeh Grazie per il restab Welcome back Mi spiace Spero Spero andrà tutto super mega easy Esatto Come dice Don Noi stiamo così Finirà la benzina E si schianterà easy Io mi faccio catturare Raga Mi faccio catturare Cazzo Non mi aspettavo di farmi catturare In questo modo Ma va bene Anche perché secondo me Mi prendeva no comunque Mi prendeva no comunque Bene Spero Spero Cerché Siamo parliamo come Poza Civilizzati mi sembra che sto parlando con Gesù Cristo sei ma no, è uguale ora mi libero e scappo il trucco del dondolio, go niente, aiuto, mi fu ma come, veramente, così, sì in seguito all'incidente il comitato direttivo del NARMI è autorizzato ad eseguire la verifica delle misure di sicurezza se avete piegato nella centrale nucleare Vladimir Lefgen Lenin nella capacità delle persone di rispondere ai eventuali attacchi gli intruditi sono introdotti nella centrale attraverso le fogne anche l'ingresso dovrebbe rimanere chiuso i nostri servizi sono protetti, vabbè, niente di che i rapporti di interazione sono stati inviati le misure di sicurezza della centrale sono estremamente inadeguate consiglio di utilizzare i fondi ah, ok, per farmi capire che sono un po' dei babbi abbiamo trovato delle parti elettroniche eh, trappole, che trappole posso fare? eh, servono le parti infiammabili per le trappole praticamente in tutte attenzione, un punto di là oh, cazzo come ce la giochiamo? ah, fuochi d'artificio dei petardi trappola laser esplosiva si innesca un'esplosione che infige gravi danni a ogni essere umano a una creatura portata non è scoppiata? shit oh shit ah facchio oh cazzo cazzo, cazzissimo non puoi costruire cazzo, cazzo, cazzissimo merda, merdissima ah, non me l'ha fatta buildare? ah, cazzo, no oh cazzo, via, via, via ma la mia vita non era in pericolo poco fa fammi buildare, please please, fammi buildare I want to build ok ma io direi cosa furtiva vaffanculo alle trappole vai, perché lì erano in due ma è andata di sfiga non ti girare Johnny not now rimani lì rimani lì ancora un biribiri bi ancora un biribiri bi no, te giuciuma oh, sì che ce l'ho sono sotto di uno mi serve una cura ho dovuto portare in spalla un bambino che era caduto in un rovo uno è caduto sulle scale di pietra e si è rotto un dente l'altro se l'è fatto addosso figa, giuciuma io ti denuncerei se fossi un genitore di quelli se ti lasci i miei cazzo di figli per portarli a fare una scampagnata cioè mi torna con un dente rotto cioè le cose sono due o ti rompo il culo sì, no è una la cosa cioè probabilmente ti romperai il culo cioè succedesse a me ti romperai il culo è ripresa la mia attrezzatura manca le armi ma vaffanculo go cazzo beh, ok che sai cosa può succedere però minchia brutti coglioni potetevi questa è la mia base ora merda vaffanculo beh, sono dente ma scusa, quanti anni hanno sti bambini? giuciuma che vanno i boy scout no Elderin con i nove mesi thank you thank you welcome back grazie per il supporto evidentemente i sospetti noi nome in codice nostalgia un ex dipendente della centrale dato per morto dopo il distanzio di Chernobyl nel 1986 il suo movente è sconosciuto le sue ampie conoscenze scientifiche e il fatto che sia al corrente la nostra ultima operazione lo rendono un soggetto potenzialmente pericoloso ok newman codice nome in codice foglia d'acero un mercenario ingaggiato alla nostalgia per accendere alla nostra centrale ok sasco ok questi sono i nostri cosi i nostri friends dagli 8 ai 12 minchia che voglia che voglia cazzo l'età peggiore poi i bambini quando sono in gruppo sono come i drogati si alleano per un obiettivo comune che è rompere il cazzo ma dobbiamo prendere l'elicottero e abbandonare la nave dire di no ahhh quindi lo dovevamo la prima volta si ok I got it so dove siamo come entro a luttare tutta questa roba inventare piena minchia come ti sparerei a un cazzo di tendine sei tutto puoi essere il portale può essere sai riesco riesco si pulisci bene lo specchietto pulisci lo specchietto bravo johnny controlli anche l'olio già che ci sei allora direi che possiamo buttare i due revolver per fare spazio del buon loot che qua ci dobbiamo entrare assolutamente che c'è la cernobilite o easiest cernobilite of my life che fighe le basi militari però raga tra l'altro ho un'amica che è nell'esercito e mi raccontava che praticamente una volta tipo i non so se erano tedeschi no erano americani gli americani erano andati nella loro base per non so quale motivo e tipo li hanno trollati hard perché non avevano un cazzo di niente faccia noi abbiamo i forni a microondi abbiamo le docce abbiamo tutte le cose minchia loro non avevano un cazzo gli italiani mi sa che ce ne dobbiamo andare col portale raga no aspetta io voglio fare come i gta mi voglio fottere l'elicottero cioè fammi capire cosa stavi facendo qua cosa cazzo stavi facendo ciao no non abbiamo ancora ritrovato Tatiana io non vorrei che questo fosse l'ingresso del posto da cui siamo scappati onestamente no ma anche perché noi dobbiamo andare a trovare il capoccia per per restorcergli info credo ma e no vedi siamo ritornati dentro ora a meno che un'altra ala cioè prima erano le prigioni e no cazzo c'è un fottuto cadavere qua no siamo usciti da una da un'altra parte noi forse perché di qui non si poteva uscire perché l'ascensore era su magari c'era il tastino non l'ho visto non credo che usare il portale sia la cosa giusta regà oh me lo fa fare eh oh qualche info l'abbiamo appresa effettivamente una info la tua pistola è nata dal rapporto non portato fra un revolver e un minigun sì figlia di revolver papà minigun torniamo a casin bail out ah ti ho scritto che appena riprendevo le mie cose dovevo fare il portale ok vabbè abbiamo fatto un looting generale ciao amici come sono andate le vostre missioni del cazzo ah vedo bene ah io sono stato rapito ho dovuto uccidere 27 persone in una base nemica ho tentato di fottermi un elicottero per arrivare in bello stile e poi sono tornato con il mio portale infradimensionale voi tutto bene? stronzi scrocconi di merda allora andiamo a mettere giù il loot che io ho portato a casa allora mettiamo giù tutta sta roba qui buono che abbiamo recuperato un po' di di lovely colpi delle piastre very good figa non ho no facciamo una roba glottopedia il pollo il pollo o gallus gallus domesticus è un uccello domestico derivante da varie specie selvatiche di origini indiane su twitch è conosciuto come spirito guida a beneficio ciclico mensile che rende bellissima la gente salva dai maledetti ads e supporta lo stream go cancelletto fatevi il pollo mi piace come 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 sponsor naziria thank you johnny thank you thank you ancora smontiamo sti cazzo di fucili mi sono rotti i coglioni e che cazzo pieno di fucili finiti uno me lo tengo che non si sa mai che arriva un pepiniello nuovo ok allora le cose qua le tengo tanto va a finire che le uso questo mettiamo giù colpi 2 4 6 si 60 bastano dobbiamo rifare 3 grimaldelli 1 2 3 dobbiamo fare colpi del revolver ce ne ho un med e basta perché il gioco è stato buono e ci li ha fatti lutare e possiamo mi sa che la base è brutta vero qualità dell'aria e comodità della vita quindi dobbiamo qualità dell'aria allora questo mi aumenta di cento la qualità dell'aria e mi usa poca energia ok facciamo uno di questi dobbiamo solo abbellirla che palle sta base di merda che è sempre brutta per loro avete rotti i coglioni 60 funghi erbe ma le erbe minchia parti meccaniche che sono pieno però mi dà più 10 cazzo però parti meccaniche hanno veramente un milione facciamo ok ora la mia base è più bella vedete cometti questi e la base diventa più bella easy clap ai tanti punti sblocca l'ampliamento dell'inventario chi è che me lo dava è vero bravo era il primo tipo mi pare che mi dava l'ampliamento dell'inventario manina bella monkey coi 37 qualcuno si è dato in interior design mi avete scoperto amici mi avete scoperto io mi rimarresti stupita nel mio gusto di Dina assolutamente bella vazz dormi bene l'ampliamento di Dina vai tranquillo già non ti succederà niente allenati e no questo precisione ah abbiamo precisione perfetta revolver 50% danni in più nemici go il secondo tipo ok lo squizzo lo squizzo esatto bleed adesso lo prendo niente ok quindi il secondo tipo il secondo tipo non è lui e minchia è che qui si imboscano sti pezzi di merda non lui ne manca solo uno rapporto la bella bella canadi persone 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 Non c'è nulla cosa, puoi mettere con la ruota di controllo che non puoi brillare. Soprattutto? Ma alcune di queste cose dovrebbero essere pesante. Beh, ho un grosso stomaco, ma sì, ho avuto la mia città di accidenti. L'unico per me, i miei amici amici sono qui per me salvare. Adrenaline e gastrici lavage sono i miei compagni. Si sembra serio. Cosa potrei sapere? È un po' qualcosa che chiede il metodo scientifico. No, no, sono a posto così. In gestire le planti non identifiche e le muscoli non suona come il metodo scientifico. Suona come il suicidio. Ma sono qui, non? Questo significa che sono certo. Ok, fine. La prendi per poi la scheda di video nuovo. Bravo, bravo. Allenati, dai dammi degli slot aggiuntivi. Capacità, quattro punti abilità, porca troia. E fammi capire qual è il tutorial per avere quattro slot in più, cioè mi fa raccogliere la roba da per terra. Mi ha chiamato Fiorellino. Mi ha chiamato Fiorellino. Mi mostra come mettermi le cose dove non battere il sole. Mi dà i pantaloni quelli che andavano di moda un cifro di anni fa, quelli con mille tasconi. Mamma che brutti che erano. Ma immagina che devi smuggere tre cratese del tuo migliore rotgutto su un checkpoint di NAR. E hai solo il tempo per l'unico in tua inventario. E perché? Perché non ti prevedi attenzione quando ti avevo dato delle lezioni di valutate sulle pagare. E ora, che ruiste il pagamento di qualcuno, sono un giorno molto speciale e importante perché non c'è sufficiente di bollino e è tutto il tuo f***o! Alla madonna! E' pazzo, raga. E' pazzo. Avevano un nome quei pantaloni, raga. Quelli... Dai, avete presente quelli con i tasconi enormi davanti, dietro e alcuni anche di lato? Ah, me lo può pimpare ancora, però mi sa che non ho abbastanza... The f*** you want? Ah no, finito. Cargo, bravi! Che brutti cazzo che erano brutti 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 brutti. In modo assurdo. Nannina! Yes indeed! Ah, ce l'ho le... Piastre... Sì, sì, ne ho tipo 7 di piastre addirittura. Io sono sarto ma li chiamo pantaloni con i tasconi... Sei sarto, veramente? Che lavoro figo! No, no! No, no. No... Ma vaffanculo Hanno ammazzato Kenny Brutti bastardi No io l'ho sempre detestato Cazzo di tasconi enormi No te di di Uno come un altro No è figo come lavoro Io mi ricordo quando sono andato dal sarto Prima e unica volta Nella mia vita che sono andato dal sarto Quando Per fare il vestito del matrimonio Era Era tutto bello Allora Va bene Il vestito da gabbia Oh novantanove Novantatré Ottantasei Ottantasei Perfetto Era un sarto sardo? No Era un sarto sardo Go Tanto complimenti che sei andato dal sarto In un negozio come i pH Ma guarda Costavano L'ho pagato molto meno dal sarto Che Che in negozio Non vorrei dire una cazzata Il vestito del matrimonio L'ho pagato tipo 300 euro Fatto su misura dal sarto In negozio Minchia Meno di 500 Non li trovavi A meno che Non erano orribili Ma comunque Non scendevi sotto i 200 Vabbè È stato il regalo Della mia mamma Per il matrimonio Quindi ho detto Sciambola Poi non è stato semplice Perché Io volevo rosa E nei negozi rosa Non era faccia da trovare Però sono riuscito Rosa fluo Raga Bellissimo Non so come il vestito Da coniglia Sai In realtà Ho usato il vestito Del paintball Ho usato il vestito Del paintball Per sposarmi Shit Allora Noi dobbiamo andare Là al centro Cosplay della pantena rosa Esatto Sì, sì, sì. A volte, bisogna andare fuori il passato per trovare un'opportunità solida. Ho imparato quello da Warren Buffett. Hai incontrato Warren Buffett? Ehm, no. Ho guardato i miei video motivativi su YouTube, però. Basicamente la stessa cosa. Allora, dimmi cosa hai, mister Invisible Cam. Ah, due filtri per uno di cibo, una piastra in ceramica per un cibo, una piastra... Vabbè, facciamo una piastra... Sì, no, filtri ce n'è un botto. Ferro una piastra Worthy Trade. Mister Invisible Hand. Anch'io a casa ce l'ho uno. Ma lo chiamo Mister Little Hand. Ehm, come facciamo a passare da questa parte che c'è la vegetazione fitta fitta? Fitta fittissima, cazzo. Sono nella fottuta giungla. Jumanji sei tu? Juchumanji? Sarà mica qua sopra la guardia? Uno... Due... Tre... Oh, cazzo. Vabbè. Non è che c'è tanto da fare. Però vedi, quello lì è Delete. Proviamo con la pistola... Allora, io c'ho il silenziatore anche su questo, ma... Quando sparo con quello mi sgamano sempre. Niente, mi hanno sgamato lo stesso perché non l'ho one-shotato. Cazzo spari attraverso il muro? Finga tutti che tentano di wallbangare su sto gioco. Che giro stai facendo, pezzo di fango? Oh, cazzo. What the hell? Quanti sono? No. Facchio. Ah, minchia, aveva il pompa per quello che mi ha spappolato. Che male che mi ha fatto la pompata da vicino. Che pompata. Mamma, lo streamer ha detto pompa. What? Oh, niente, era un vetro super pulitissimo. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Oh, what? Ma quanti cazzo di enemies ci sono? What the fuck? A me si piacciono molto, Scaffa, sì. È un misto tra Stalker e Diswaromine. Pfff. 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 Porca puttana. Non li vedo. Non li vedo. Ok, lo vedo. Ma poi sono tutti i sergenti. Che cazzo è, minchia? Tutti quanti sergenti, cazzo, che hanno un trilione di vita. Andatevene a fanculo. Dove sono i mozzi che one shottavo? Loro voglio io. Ah, minchia, ma mi hanno rotto il giubbotto. Ah no, non ce l'ho equipato. Ah, ma vaffanculo. Non ce l'avevo equipato da quando, mi sa, abbiamo fatto una missione che l'ho rilutato. Non l'hai equipato in automatico. Dalla missione quella lì nella prigione. No, a te no. Ecco perché pigliavo tutti questi fantadanni. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Che basta, enemies, oh. Cioè. Fatemi fare la mia missione. Il cazzo, minchia, questo mi sa proprio di mini-base. Vabbè, sì, però effettivamente è la base del tipo. Comodo l'ingresso. Jesus Christ, what a goddamn tragedy. Misha was a good guy. Yeah, Misha was a goddamn power more. Explain. What? That a monster escaped from a mad scientist secret lab and killed him? No. We blame it on Samichels. Easy. Mi sa che non ci arriva. Mi sa che non ci arriva. Mi sa che non ci arriva. Ah, quindi ce n'era uno in quella tenda lì. Beh, a parte che teoricamente con questo li dovrei... Buongiorno. Fuck. Vabbè, ma che situazioni di merda però. Serve veramente fucile a pompa qui. O comunque mi serverebbe una K senza mirino, regà. Perché non è umano sparare mili zoomando con l'8x. Ma c'era qualcuno qua dentro, credo. Sve lo vero. Sarà scappato e impaurito. Du 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 duuuu. Ma com'è possibile? Ma sono diventati immortali, regà Non aveva nel metro Gli ho fatto headshot Guarda, è il bello Spectral Q19, welcome back E come ho fatto a avermi qualche arma? Quelle che puoi craftare sono queste Quelle che puoi lootare sono queste Oh cazzo, cic 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 Oh merda, è merdissimo Oh, mi sa che arriva pure Peppiniello E se arriva Peppiniello sono cazzi Fuck Minchia, se mi stunnano poi, tipo Minchia, ma arriva Coso Dove cazzo è l'altro? Dove cazzo è l'altro? Dove deve essere tipo qui Non vedo niente, non vedo Ah, niente, sono ripato Allora sì, volendo potremmo craftare tipo l'arma, il cannone, quello strambo Forse è anche il caso Perché mi sembra che non faccio danni No, adesso teoricamente Ci manda in quel tunnel strano dove possiamo fare il cambio delle scelte, giusto? Dove minchia sono? Oh shit No, non era scriptato Però avete presente la missione dove prima mi sono arreso? È la stessa, credo Ogni volta che ti catturano devi fare quella cosa Eh sì, vedete, è la parte di prima, solo che è la prigione Sono nell'ala diversa E quindi scusami, io come faccio a cambiare le scelte? Ah, secondo me per cambiare le scelte Devo Dobbiamo craftare quella roba lì che ci smaterializza e suicidarci Dove cazzo era? In the lab In che scelta vuoi cambiare? Quella Oh cazzo Quella O della tipa che non gli dico che gli ho ucciso il Il marito Oppure proprio vado indietro e non uccido il marito Perché anche lei è una tipa che ti viene in base, mi han detto E quindi probabilmente faceva qualche upgrade Ripeto, secondo me deve avere più ali possibili Per fare la missione finale Miche, come faccio? Ok Gaspar e Zuzurro Oh, lui ci è passato in mezzo Però l'arma si è appoggiata sul water Figo Riparto di isolamento Ho detto no, ma serve il laboratorio Oh cazzo Ho fatto la Kansas Gli ho fatto la Kansas Chat Arrivo Johnny Easy Easy Kansas Effettivamente raga Ah però non c'è colpi Fuck Però posso minacciarli di brutto Dai, prima l'ho trovato per puro caso il mio zaino Ascensore E no, qui per andarsene Qui per andarsene Infermeria Celle Dove cazzo è il laboratorio? Mensa Prima l'ho trovato immensa Credo Quindi credo che Ogni volta che succede questa cosa Il tuo loot si sposta Proviamo a vedere piano lì sopra No, celle, celle, celle Ovunque Ha detto laboratorio, vero? Perché non ho letto i sottotitoli Ho sentito la voce Ma mi sembrava avesse detto La mia roba è nel laboratorio Fermania Celle E che cazzo? Proviamo a scendere Anche se Ma no, vedi, reparto isolamento Qui dove Siamo usciti quando ci siamo arresi E ci hanno messo in isolamento Ora invece ci aveva messo in cella Tanto sembro essere l'unico Catturato qua dentro Quindi di spazio Ce n'è in queste prigioni Hanno lasciato tutte le celle aperte A prendere aria A prendere la mappa Non credo ad avere Invece ho la mappa Fuck Abbiamo anche la mappa E però vedi Se andare di qui Ma di qui non c'è nulla Quindi l'unica è Prendere un corridaio laterale Lì c'è l'ascensore Ma secondo me Regà è sopra allora Il laboratorio Il laboratorio è fuori Mi ha chiamato maniaco Io non vedo Lui Lui non vede me Ok È la mia teoria ragazzi Se io non vedo lui Lui non può vedere me Eh come faccio Lo prendo a coltellate Nei reni Eh ma adesso Quando riparte Se continua a fare la ronda Di qui mi spotta Ok Via Ci siamo chat Back to the loot Dov'è la mia roba Eccola Abbiamo un zainetto Piccolissimissimo Regà Tutta zippata Minchia adesso Due pompate a questi stronzi Non ne toglie nessuno Non abbiamo mai usato Il pompa È il momento di testarlo Vaffanculo Dov'è l'altro Eh Gianni vieni Porca puttana È il nemico Non ho capito Aspetta Aspetta È reloading È il nemico Finito i colpi Finito i colpi Finito i colpi Non avevo pochi Ah Stronzo Allora Vediamo se questa Aveva più placche Perché l'altro Winchia è tutta spappolata Niente Il gioco Si è scammato Le mie Fanculo Si Si è scammato Le mie placche Va bene Ok Ce ne possiamo andare Ah il problema Il problema del fucile a pompa È che devi O comunque di tutte le armi in generale In generale È che devi sempre schiacciare col destro E quindi ti fa quella La mira Non puoi fare i quickshot E col fucile a pompa Che cazzo devi mirare Fammi sparare No Ok Allora Adesso dobbiamo rifare la stessa In che senso Che non puoi cliccare E sparare Qui devi per forza mirare Aspetta Andiamo da cosa Che gli diamo sto Eri tu no Era Lui Gianni mi è uscito Un coso antiproiettile nuovo Trovo a te Che mi sei simpatico Scusami Ho saltato l'inizio Pensavo che fossero le solite cose E ecco il punto Per par condicio No A chi è che non l'ho dato Non era lui l'ultimo Oliver forse C'è quello merdoso Ma perché mi stanno dicendo Cose nuove Dai Ok Lui c'è quello merdoso E diamo quello buono E allora Mi sa che l'ho dato a tutti Guarda Me lo tengo per sicurezza Che questi qui Ok Fucile a pompa Lo mettiamo giù E' un sorry Ho saltato un paio di dialoghi Non volendo Questo non lo tengo tanto Lo uso Anche quanto cibo Che ho Ma quanto loot In generale Cioè sono pieno Ma pieno 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 Allora Colpire il fucile Ok Esagererei un po' Perché Vedo che vanno via Come il pane If you know What I'm saying Ah è vero Il Gatelyn Vediamo come si fa Il Gatelyn Mica Devo veramente Farmi un fottuto Gatelyn Però è vero Cioè Noto che adesso Mi manca seriamente Del firepower Allora Credo che sia Sotto Fabbricabile Banco d'armaiolo Allora Acceleratore molecolare Produce Lancia plasma molecolare Valteria Cannone rotaia Proiettili Con liquido Ok Allora Lancia plasma molecolare Danni 10 Un'arma in avanguardia Che crea una lancia Un proiettile 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 Con questo infonde Grande forze Velocità E proiettili Proiettili Con liquido Che sono Piegati automaticamente Con lo suon Canone La rotaia Vabbè Facciamoci Il lancia plasma Molecolare E facciamo 9 batterie Adesso non so Quante ne usi Equipaggia Oh la madonna E però Minchia Costano i colpi Regà Cioè Le parti elettroniche Manco tanto Sono i funghi È un fottuto BFG Sì È un fottuto BFG Però sono due funghi Ogni colpo Che sparo Vabbè Ce lo portiamo Dai Che facciamo Non proviamo Anche il cannone A rotaia A sto punto Eh vedi Già questi qui Proiettili Con liquido Mi costano Meno Ok Li posso Migliorare Anche Sono introdite Di cannone Inverazione Cosa A rotaia Va bene Allora Canone a rotaia Sicuramente Dobbiamo Al caricatore Ci aumenta solo La capienza Dei colpi Però ci perdiamo Importate Stabilità Però Minchia Tre colpi Mi sembrano Veramente Pochi In questo addirittura Ci perdiamo Danno Cioè questo Perde solo Danno Non guadagna Niente Se mi metto Sto caricatore Perde danno Fine Canone automatico No Devi spam Non cliccare Ma metterei Questo Ci perdiamo Un'instabilità Ma comunque Tre colpi Mi sembrano Pochi Ho un grillettino Un grillettino Da danno Direi Sì Andrei Allora A questo punto Full danno E sparo Un colpo Alla volta Canna doppia Incremento Consumo Due proietti Da sparo Ok Ah però Vedi Così Non posso Più Pimpare Il danno Mirino Voglio Redot Mirino Standard Mirino A cecchino Con termo Visore Veramente Cioè Non posso Mettere Redot Su questo Questo non mi ha portato Alla merda E no Allora lasciamo Il mirino Normale Ok Allora Facciamo che Mettiamo Meno rapido Dov'è il 5? 5 5 questo E su 6 Mettiamo Il cannone Del vaffanculo Mi sembra Che adesso Siamo Echipati Voi cosa Dite Siamo Echipati Eh di solito Il figlio Incattivito Nel fucile Da cecchino Lo so Però Dice che Portata È 3 Eh vedi Però Adesso Usare I funghi Per le cure Miro Del culo Miro Del culo Va bene Però ragazzi Lo scopriremo domani Come spara Questo cosa Perché a sto punto Andiamo a fare la nannina No 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 Fixiamo la base Prima va bene Non vi arrabbiate Con militoni Ora ve l'abbellisco Come solo io So fare Qual è il problema Eeeh Siamo iper radioattivi Oh shit Eh devo per forza Fare questo Eh perché giustamente Abbiamo fatto Quella roba lì Allora dobbiamo fare Altra roba Della corrente Facciamo questo E dobbiamo abbellire Comfort per i compagni Dei bellissimi muri Parti meccaniche Oh va che bella roba 20 Erbe Cazzo che si più 40 Però mi usano le erbe Oh raga Io di basi belle Ne ho viste Ma belle come la mia In pochi Eh sono felici Sono felici Ragazzi Ogni giorno Vengono a casa Dopo aver fatto una missione Vedono la base Dicono cazzo Il nostro capitano Eeeh Ci tiene a noi Ci vuole fare vivere bene Sono felici Arrivano qui Si mettono qui Si siedono Ragazzi intorno a Queste griglie Qui parlano Parlano delle loro gesta Durante la Sono felici Sono veramente fiero Di essere il loro capo Sono Sono proprio dei bravi ragazzi Per me L'angolo rotture della Lidl Esatto L'angolo dei resi Va bene Allora domani è il giorno 21 Aspetta Allora prima di andare a Nanna Prima di andare a Nanna Voglio cliccare sul tabellone E vedere cosa ci dice Perché secondo me Adesso Adesso Hai Mentioni un fru Sì Ruslan Nessuna Siamo insieme a Moscao Dobri 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 Quindi Che Che Reggare La La Prima di Che 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 Non Per Nessuna Per Quindi Ruslan Tadda Cosa È una storia Ma Il nostro Padre Era un schifo E come Molina Che 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 Il mio padre è stato un malattimo, che sempre era. Ma non mi ricordo l'ultimo tempo. L'altro ha fatto un sguardo a mia cuore con una piazza di ciotola. Ma questa volta non si tratta. Non ero un po' di più aiuto e non ero riuscita. Abbiamo agliato l'ultimo e lo tirato nel wello dietro l'ultimo casa. Era proprio troppo di un bambino a morire. Solo lo scopo i suoi piedi. Batuta! You threw your own father down a well. I guess he must have deserved it. Okay, what's my role in all this? My brother Ruslan did something he shouldn't, and after this something, he came here to hide in the zone. I've been trying to track him down for months. Damn, what did he do that would make him hide in a place like this? That's not important right now. Anyway, my best guess is that he was caught by NAR. I need to meet up with him and ask him some questions. E hanno un umorismo tutto loro, Phoenix. Cioè, uno scienziato, non è un comico. Allora, vedi, membri della squadra riuniti, 4 su 5. Ci manca la tipa. Strumenti acquisiti, ce ne mancano due indagini di condotte, 3 su 4. Quindi vuol dire che ci manca un'indagine, ma non è segnalata. Ah no, la donna ha l'abito rosso, che è l'indagine su Tatiana, quindi. Ma è poppata dopo, ne avevamo solo tre, sì. Ok, quindi sì, domani sera credo che forse riusciremo a finirlo. Però secondo me dobbiamo comunque mandare indietro il tempo. Devo costruire quel robo lì per suicidarmi. Per cambiare la risposta alla tipa. E farla venire nel mio team. Cioè, non so se cambiare la risposta alla tipa o tornare indietro nel tempo e non uccidere il marito. Che magari non uccidendo il marito evito di fare la risposta. Però magari il marito deve morire, oppure non verrà mai nel mio team. Quindi è giusto averlo ucciso, ma devo dirle che non so niente, non l'ho visto. Lei lo darà per disperso e verrà nel mio team. Però credo che dobbiamo costruire quel cazzo di macchinario per suicidarci con le radiazioni. È l'unica. Perché abbiamo visto che adesso sei morito... Ah no, però vabbè, magari perché sono morto in quella missione. Magari basta morire random. Però perdi il loot, credo, quando muori. Cioè, perdi parte della roba che è addosso. Se resti una persona orribile. E lo so, però serve per finire il gioco. A meno che c'è un'altra tipa. Vedi, perché qualcuno dice che deve guardarci il culo. Un cecchino? Mi serve una spia. Un hacker. Questo, una carica dovrebbe... Quello per le bombe ce l'abbiamo. Posso introdurre una centinaia di visione? Ho solo bisogno di qualcuno di finge di essere un soldato del NAR. È questo che ci serve, credo. È adatta per uno... Perché, vedete, manca qui un'immagine. No, però ne mancano due. O tre addirittura. No, forse manca un'indagine. Una persona... Perché le persone hanno le foto piccole. Manca qua una persona. Il tipo che è lasciato legato nel tunnel. Minchia, è vero. Era un NAR. No, dai, non ci credo che era lui. Anche perché sarebbe rimasta la missione. Va bene, dai. Ok, non credo che mi abbia salvato. Quindi domani ci risentiamo al dialogo col tipo. Come io... So... Grazie.